Un audiocorso gratuito in numerose lingue. Io e te. Man e te. Noi due. Her due ma. Lui. O. Lui e lei. An merd e an zan. Loro due. Her due anha. Luomo. An merd. Ladonna. An zan. An zan. Il bambino. An bache. An bache. Una familia. Yek khanewaade. Yek khanewaade. Lamia familia. Minha familia. Khanewaade man. Khanewaade man. Minha familia. La mia familia è qui. Khanewaade man injaast. Khanewaade man injaast. Io sono qui. Man injaastam. Minha injaastam. Tu sei qui. Tu inja hasti. Tu inja hasti. Lui è qui e lei è qui. An mart injaast. Va an zan injaast. An mart injaast. Va an zan injaast. Noi siamo qui. Ma inja hastim. Ma inja hastim. Voi siete qui. Shoma injaastid. Shoma injaastid. Tutti loro sono qui. Hameya anha injaastand. Hameya anha injaastand. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Due. 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 La famiglia. Khanewaade. Khanewaade. Il nonno. Peder boseg. Peder boseg. La nonna. Mader boseg. Mader boseg. Lui e lei. U va u. U va u. U va u. Il padre. Pedar. Pedar. La madre. Modar. Modar. Lui e lei. U va u. U. U va u. U va u. Il figlio. Pesar. Pesar. La figlia. Dohtar. Dohtar. Lui e lei. U va u. U va u. Lo zio. Amu dai. Amu da i. La zia. Amme khali. Amme khali. Lui e lei. U va u. U va u. Noi siamo una famiglia. Ma yek khanewade hastiim. Ma yek khanewade hastiim. La famiglia non è piccola. Khanewade kochak n'est. Khanewade kochak n'est. La famiglia e grande. Khanewade bozorga hastiim. Khanewade bozorga hastiim. Fifty languages. Tre. Se. Se. Pare la conoscenza. Ashanah shodan. Ashanah shodan. Ciao. Salam. Salam. Buongiorno. Ruz be khayr. Ruz be khayr. Come va? Halet chetore. Halet chetore. Viene dall'Europa? Shoma az Europa miyaid? Shoma az Europa miyaid? Viene dall'America. Shoma az Amerika miyaid? Shoma az Amerika miyaid? Viene dall'Asia. Shoma az Asia miyaid? Shoma az Asia miyaid? In kuale hotel alloggia? Dar kodam hotel iqamat darid? Dar kodam hotel iqamat darid? Da quanto tempo è qui? Che modet az iqamatetan darinja miygozarat? Che modet az iqamatetan darinja miygozarat? Per quanto tempo rimane? Che modet inja miymanid? Che modet inja miymanid? Le piache qui? Az inja khushetan miyayad? Az inja khushetan miyayad? En vacanza? Beraie musaferat inja hastid? Beraie musaferat inja hastid? Mi venga a trovare. Sari beman bezani. Sari beman bezani. Eko il mio indirizzo. Eko il mio indirizzo. Eko il mio indirizzo. Eko il mio indirizzo. Ci vediamo domani? Farda hemdikarra miybini? Farda hemdikarra miybini? Mi dispiace. Ogja un'impegna. Motacifam. Man bernamhe iq dara. Motacifam. Man bernamhe iq dara. Ciao! Choda hafiz. Choda hafiz. Arrivederci. Choda nighedar. Choda nighedar. Apresto. Ta bad. Ta bad. 50 Languages Quattro. Chahar. Chahar. Ascuala. Dar madrese. Dar madrese. Dove siamo? Ma kujà hastiim? Ma kujà hastiim? Ma kujà hastiim? Siamo a scuola. Ma dar madrese hastiim. Ma dar madrese hastiim. Abiamo lecione. Ma klasa dars. Ma klasa dars dars. Ma klasa dars dars dars. Questi sono gli studenti. A program tu. Un' Wow. Dia dionda. Questa è l'insegnante. Qu'è cosa facciamo? Ma c'è kare m'ekoniamo? Studiamo Ma d'assimiliamo Imperiamo una lingua Io studio l'inglese Tu studi lo spagnolo Tu espaniei yad mi giri Lui studia il tedesco U almaniyad mi girat Noi studiamo il francese Ma fransavi yad mi girim Voi studiate l'italiano Loro studiano il russo Anha rosi yad mi girand Studiare una lingua è interessante Yadgiri zabon gialib ist Vogliamo capire l'agente Vogliamo parlare con l'agente Ma mi khaiim ba insana sohbet koniem 50 languages 5 5 Paesi e lingue Kishore ha Kishore ha Ve zabon ha Kishore ha Ve zabon ha John Edy Londra 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 Lui parla inglese O inglesi sohbet mi kened Maria è di Madrid Maria ahle Madrid è Madrid si trova in Spagna Madrid dar Espania qarar dared Lei parla Spagnolo O Espaniai sohbet mi kened Peter e Marta sono di Berlino Peter e Marta sono di Berlino Berlino si trova in Germania Berlino si trova in Germania Berlino si trova in Germania Londra è una capitale Anche Madrid e Berlino sono capitali Le capitali sono grandi e rumorose La Francia si trova in Europa L'Egitto si trova in Africa Mestr dar Afriqa qarar dared Mestr dar Afriqa qarar dared Il Giappone si trova in Asia Japon dar Asia qarar dared Japon dar Asia qarar dared Il Canada si trova nell'America del Nord Canada si trova in America Pana ma dar America Marcazì qarar dared Pana ma dar America Marcazì qarar dared Il Brazil si trova nell'America del Sud Brazil dar America Junubì qarar dared Brazil dar America Junubì qarar dared 50 Languages Con la Nuova per letra Yolego Io leggo Mon mi chanem Io lego una letra Io lego una parola Io lego una parola Io lego una litra Io lego una parola Io lego una parola Io lego una parola Tu leggis Lui legg Io scrivo Io scrivo una lettera Io scrivo una parola Io scrivo una lettera Io scrivo una lettera Io scrivo un libro Io scrivo un libro Io scrivo Tu minevisi Lui scrive U minevisat U minevisat Fifty languages Sette Haft Haft Numeri Io conto Io conto Continuo a contare. Man be shumarish adame mi da'ham. Man be shumarish adame mi da'ham. Quattro cinque sei cahar panj šes cahar panj šes sette otto nove heft hesh nuh heft hesh nuh io conto man mi shumaram man mi shumaram tu conti tu mi shumari tu mi shumari lui conta u mi shumarad u mi shumarad uno il primo jek avval jek avval due il secondo do dovom do dovom tre il terzo se sevvom se sevvom quattro il quarto cahar 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 cinque il quinto panj panj panjom panj panjom sei il sesto shes shesom shes shesom sette il settimo haft 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 om otto l'ottavo hast hast hum hast hast hum nove il nono no no home no no home fifty languages Grazie a tutti Che ora è? Per favore? Che ora sono? Per favore? Saat c'n'da st? Saat c'n'da st? Grazie mille Bessiare sppas gusaram Bessiare sppas gusaram È luna Saat 1 è Saat 1 è Sono le due Saat 2 è Sono le tre Saat 6 è Sono le quattro Saat c'hoorast Saat c'hoorast Sono le cinque Saat panjast Saat panjast Sono le sei Saat c'hoorast Saat c'hoorast Saat c'hoorast Sono le otto Saat c'hoorast Saat c'hoorast Sono le nove Sono le dieci Sono le undici Sono le dodici È mezzogiorno È mezzanotte Un minuto a sessanta secondi 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 Un minuto a venti quattro ore Un minuto a sessanta secondi Un minuto a sessanta secondi Dorad Fifty languages 9 9 9 I giorni della settimana Ruzhaie hafte Ruzhaie hafte Il lunedì Dushambe Il martedì Sessambe Il mercoledì Cahar shambè Il giovedì Panj shambè Il venerdì Jom'è Il sabato Shambè La domenica Yek shambè La settimana Hafte 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 Dal lunedì A domenica Az dushambe Ta yek shambè Az dushambe Ta yek shambè Il primo giorno Il primo giorno è il lunedì Avvalin ruz Dushambe Est Avvalin ruz Dushambe Est Il secondo giorno è il martedì Dovomin ruz Se shambè Est Il terzo giorno è il mercoledì Se vomin ruz Cahar shambè Est Se vomin ruz Cahar shambè Est Il quarto giorno è il giovedì Caharomin ruz Panj shambè Est Caharomin ruz Panj shambè Est Il quinto giorno è il venerdì Panjomin ruz Giume Est Panjomin ruz Giume Est Il sesto giorno è il sabato Shishomin ruz Shambè Est Shishomin ruz Shambè Est Il settimo giorno è la domenica Haftomin ruz Yek shambè Est Haftomin ruz Yek shambè Est La settimana a sette giorni Hafte Hafte Haft ruz dared Hafte Haft ruz dared Noi lavoriamo solo cinque giorni Ma faqt penj ruz Kare mie kone Ma faqt penj ruz Kare mie kone Ma faqt penj ruz 50 languages Dia ruz Ma faqt penj ruz Dere ruz Un per nero Moren gian in cinque Di ruz Farda Di ruz E ruz Amruz Farda interessante FILEM JALEBI BUD FILEM JALEBI BUD Oggi è Domenica Amrùs yek shambè ast Amrùs yek shambè ast Oggi non lavorò Man amrùs kār nè mì konam Man amrùs kār nè mì konam Resto a kaza Man amrùs dèr khāne mì mānam Man amrùs dèr khāne mì mānam Domani è lunedì Farda doshambè ast Farda doshambè ast Domani lavoro di nuovo Man farda dobare kār mī konam Man farda dobare kār mī konam Lavoro in ufìčo Man darr adare kār mī konam Man darr adare kār mī konam Kieh? Où kīst? Où kīst? E' peter Où pieter ast Où pieter ast Pēter è uno studente Pieter dānešġu ast Pieter dānešġu ast Questa chi è? Où kīst? Où kīst? Questa è Marta Où mārta ast Où mārta ast Mārta è una segretaria Mārta mūnšī ast Mārta mūnšī ast Pēter e mārta sono amici Pieter vā mārta bāham dūst hestand Pieter vā mārta bāham dūst hestand Pieter è l'amico di mārta Pieter dūst pēsar mārta ast Pieter dūst pēsar mārta ast Mārta è l'amica di pieter Mārta dūst dūkhtar pieter ast Mārta dūst dūkhtar pieter ast Pieter dūst dūkhtar pieter ast Mārta dūst dūkhtar pieter ast Mārta dūst dūkhtar pieter Juan Questi sono sei mesi Inha šeš maah astand Inha šeš maah astand Gennaio, febbraio, marzo Aprile, maggio e giugno Avril, mai, juan Avril, mai, juan Luglio Juillet Agosto Settembre 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 Anche questi sono sei mesi. Luglio, agosto, settembre. Giuglie, agosto, septembre. Ottobre, novembre, dicembre. Octobre, novembre, desembre. Octobre, novembre, desembre. FIFTY LANGUAGES DODICI Dovazdeh Dovazdeh Bevande Noshidaniha Io bevo te. Man chai minošem. Io bevo kaffè. Man chai minošem. Man chai minošem. Io bevo acqua minerale. Man abmadani minošem. Man abmadani minošem. Bevi il te con il limone? Tu čai rā bā liimu minoši. To čai rā bā liimu minoši. Bevi il kafè con lo zuccaro. To qahvera bā shikar minoši. To qahvera bā shikar minoši. Bevi acqua con ghiaccio. To āb rā bā yach minoši. To āb rā bā yach minoši. Qui c'è una festa. Ainja yek mehmani ast. Ainja yek mehmani ast. La gente beve prosecco. Mardom šampain minošend. Mardom šampain minošend. La gente beve vino e birra. Mardom šarab vā abjo minošend. Mardom šarab vā abjo minošend. Bevi alkolici. To alkol minoši. Bevi whisky. To whisky minoši. To whisky minoši. Bevi coca cola con il rum. To nuša bē vā rām minoši. To nuša bē vā rām minoši. Nonna mi piace il prosecco. Man šampain dūst nadāram. Man šampain dūst nadāram. Nonna mi piace il vino. Man šarab dūst nadāram. Man šarab dūst nadāram. Nonna mi piace la birra. Man abjo dūst nadāram. Man abjo dūst nadāram. Al bambino piace il latte. Bacce šīr dūst dārad. Bacce šīr dūst dārad. Al bambino piacciono la cioccolata e il suco di mēla. Bacce šīr dūst dārad. 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 Alla donna piacciono la spremuta d'aranča e il suco di pompelmo. ān khanom āb portigāl vā āb gribifurūt dūst dārad. Copyright. Good as a luck. 50 languages. Un audiocorso gratuito in numerose lingue. Tredici. Sīz dā. Sīz dā. Attivitā. Fa'oli at ho. Fa'oli at ho. Che cosa fa Marta? Marta če kār mikonat? Marta če kār mikonat? Marta če kār mikonat? Lavora in ufficio. Ő dar edare kār mikonat. Ő dar edare kār mikonat. Lavora al computer. Ő bā kompioter kār mikonat. Ő bā kompioter kār mikonat. Dove Marta. Marta kujāst? Marta kujāst? Alcinema. Dār sīnema. Dār sīnema. Dār sīnema. Dār sīnema. Guarda un fīlm. Ő yek fīlm tamāša mī koned. Ő yek fīlm tamāša mī koned. Ő yek fīlm tamāša mī koned. Ke kosa fa Peter? Pieter če kār mikonat? Pieter če kār mikonat? Pieter če kār mikonat? Studia all'universita. Ō dār dānishgāh tahsīl mī koned. Ō dār dānishgāh tahsīl mī koned. Studia lingue. Ō dār rishdē zabān tahsīl mī koned. Ō dār rishdē zabān tahsīl mī koned. Dove Peter? Pieter kujāst? Pieter kujāst? Albar. Dar kafē. Dar kafē. Beve un kafē. Ō qahvē mī nūšad. Ō qahvē mī nūšad. Dove li piacandare? Kujā dūst dārānd bērāvānd? Kujā dūst dārānd bērāvānd? Ai končerti. Be koncert. Be koncert. Li piac ēskoltar la mūzika. Čn ona pēršenīdān mūsigī ailaqi Kirby ailaima contacts. Ann ća pēršanīdān mūsigī aila감이 limits. Dove non vanno volintieri. Be kujā dūst nādārānd bērāvānd? Be kujā dūst nādārānd bērāvānd? In discoteca Be disco Non gli piace ballare Anha beraxidan alaqe nadarand Anha beraxidan alaqe nadarand www.book2.de per il libro e per i testi Quattordici Ciohorda Ciohorda Colori La neve è bianca Balfe sifidast Il sole è giallo Churşid zardast L'arancia è arancione Portigal narenji è Portigal narenji è La ciliegia è rossa Il cielo è azzurro L'erba è verda L'erba è verda Le ruote sono nere La sticcola La sticcola La sticcola L'erba è verda Di che color è la neve? Bianca Balfe ciliegia è sifid Balfe ciliegia è sifid Balfe ciliegia è sifid Di che color è il sole? Giallo Balfe ciliegia è sifid Aseman ciliegia è sifid Aseman ciliegia è sifid Aseman ciliegia è sifid Di che color è la terra? Marrone Quack ciliegia è sifid Quack ciliegia è sifid Quack ciliegia è sifid Quack ciliegia è sifid Di che color è la nuvola? Grigia Abre ciliegia è sifid Quackistari Abre ciliegia è sifid Quackistari Di che color è sono le ruote? Nere Laastica ciliegia è sifid Sia Laastica ciliegia è sifid Sia Sia Quindici 15 Fruuti Generi alimentari Mievoe-ha Mevoe-ha 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 Myvoe-ha E o od�da отпragole Io ho un kiwi e un melone Io ho un arancia e un pompelemo Io ho un arancia e un pompelemo Io preparo una macedonia Io manjon tost Io manjon tost con il burro Io manjon tost con il burro e marmellata Io manjon tost con la margarina Io manjon tost con la margarina e pomodoro Con il burro e margarina e pomodoro Io manjon tost con la margarina e pomodoro Abbiamo bisogno di pane e rizo Abbiamo bisogno di pesce e bistecche Abbiamo bisogno di mahi e steak Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra Dove troviamo un supermercato? Fifty Languages Sedici Shanzdah Stagioni e Tempo Queste sono le stagioni La primavera L'estate L'autunno e l'inverno Paes Zemestan D'estate Fa caldo Tabestan Germast Tabestan Germast D'estate C'è il sole C'è il sole Dar Tabestan Churcid Mì tabad Dar Tabestan Churcid Mì tabad D'estate 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 Ci piace Andare A passeggio Dar Tabestan Dost Darim Piadravi Konim Dar Tabestan Dost Darim Piadravi Konim D'inverno D'inverno Fa freddo Zemestan Sardast Zemestan Sardast D'inverno Nevica O piove Dar Zemestan Barf Yo Baran Miborat Dar Zemestan Barf Yo Baran Miborat D'inverno Preferiamo Restare In Casa D'er Zemestan Dost Dariim D'er Khane Bemani D'er Zemestan Bieştter Dost Dariim D'er Khane Bemani Fafreddo Sardast Sardast Piove Baran Miborat Baran Miborat Tiravento Bad Bad Miborat Bad Miborat Fakaldo Garmast Garmast C'è il sole Aftabi Est Aftabi Est E' sereno Hava Hava Sof Est Hava Sof Est Che tempo fa Oggi Hava Hava Ameruz Che Tore Est Hava Ameruz Che Tore Est Oggi Fa Freddo Ameruz Sardast Ameruz Sardast Oggi Fa Kald Oggi Ameruz Garmast Ameruz Garmast Ameruz 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 Fifty Languages Diciassette Hefda Hefda A casa Dar Khone Dar Khone Ecco la Nostra Casa Enga Khane Sopra Che Il Titto Bala Pouște Bode Bala Pouște Bode Sotto Che La Cantina Pā Pā Zier Zem Zier Zem Zem Dan Dietro la casa c'è un giardino Pushte khane, yek baga è Davanti alla casa non c'è nessuna strada Jolo ye khane, khiyabani n'est Jolo ye khane, khiyabani n'est Vicino alla casa ci sono degli alberi Kenaare khane, dirachtani hestand Ecco il mio appartamento Inja appartamone manhast Ecco la cucina e il bagno Inja áshpaz khane e hammam ast Inja áshpaz khane wa hammam ast Lì ci sono il salotto e la camera da letto Inja utaague nishiman wa utaague khab ast Inja utaague nishiman wa utaague khab ast La porta è chiusa Darbe khane baste ast Darbe khane baste ast Ma le finestre sono aperte Amma penjere ha baz hestand Amma penjere ha baz hestand Aggi fa caldo Amoruz khayli garmast Amoruz khayli garmast Noi andiamo insalotto Ma be utaague nishiman mi raviim Ma be utaague nishiman mi raviim Lì ci sono un divano e una poltrona Anja yek kanape و yek mobl قرار darand Anja yek kanape و yek mobl قرار darand Si si ada Bifrmaie Bifrmaie Lì ci sono un computer Lì c'è il mio stereo Lì c'è il mio impianto stereo Anja dastgahe esterioie man garar darand Il televisore è nuovo di zecca Televisión Kamelan Noast Televisión Kamelan Noast 50 Languages Diciotto Hejdah Pulizie di casa Nizafate khane Nizafate khane Oggi è sabato Oggi abbiamo tempo Ma a moro Ma a moro Oggi Puliamo L'apartamento Amoriz Amoriz Aparatamento Rò Tumiz Mekonim Amoriz Aparatamento Rò Tumiz Mekonim Io Pulisco Il bagno Mio Mio marito Pulisce la macchina Oggi Otomobili Mio 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 annaffia i fiori i bambini mettono in ordine la loro stanza baccia ha otaqishan ra tamiz mi konand mio marito mette in ordine la sua scrivania metto la biancheria nella lavatrice stendo il bucato stiro la biancheria le finestre sono sporche il pavimento è sporco kaffe otaq kassif ist kaffe otaq kassif ist le sto vilje sono sporche qui pulisce le finestre? qui spolvera? qui passa la spira pulvera? qui lava i piatti? qui la spira pulvera? qui la spira pulvera? qui la spira pulvera? di c'ernnave 19 19 19 19 19 19 19 20 21 23 23 24 24 25 25 25 28 32 25 25 26 28 28 28 29 29 32 32 33 33 33 33 36 36 37 37 38 38 38 39 40 41 42 34 31 44 45 Tu una prebottiglia 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 Che cosa le piace leggere? D'er che hozzei mottolinea dà riede? D'er che hozzei mottolinea dà riede? Va volentieri al concerto? Shoma alaqe mand be koncert raften hasti d? Shoma alaqe mand be koncert raften hasti d? Va volentieri al teatro? Shoma alaqe mand be tàatr raften hasti d? Shoma alaqe mand be tàatr raften hasti d? Va volentieri all'opera? Shoma alaqe mand be opera raften hasti d? Shoma alaqe mand be opera raften hasti d? Fifty Languages Ventuno Bisto yek Bisto yek Small talk Chiacchere due Goftegu yekuta do Goftegu yekuta do Da dove viene lei? Di dov'è? Shoma aaz kogja mi aeid? Shoma aaz kogja mi aeid? Da bazilea Di bazilea Az bazel Az bazel Bazilea si trova in Svitsera Bazel dar suïs qarar darad Bazel dar suïs qarar darad Le posso presentare il signor Muller? Mi towanam aqaie Muller raa be shoma muarrafi konam? Mi towanam aqaie Muller raa be shoma muarrafi konam? Lui e straniero Lui e straniero U kharegi ast U kharegi ast Parla diverse lingue U be chandin zaban tasallot darad U be chandin zaban tasallot darad Lei e qui per la prima volta? Shoma beraie avelin bar injaa hastid? Shoma beraie avelin bar injaa hastid? No, ci sono giastato l'anno scorso Nuh, man salle gusashtaham injaa budam Nuh, man salle gusashtaham injaa budam Masalo perun esittimana Ama tanha yek hafte Ama tanha yek hafte Komisit rava danoi? Az injaa khoshetan mi aed? Az injaa khoshetan mi aed? Molto bene, la gente è gentile Bessiar, mardom mehraban hastand Bessiar, mardom mehraban hastand Ed anche il paesaggio mi piace Az manazere injaa ham khoshem mi aed? Az manazere injaa ham khoshem mi aed? Qual è la sua professione? Chugle shuma chi è? Chugle shuma chi è? Sono traduttore Man mutargem hastam Traduco libri Man kitab tarjame mi konam Man kitab tarjame mi konam Es solo, sola qui? Chumma injaa tanha hastid? Chumma injaa tanha hastid? No, c'è anche mia moglie, mio marito No, khanomam, soharam ham injaa st No, khanomam, soharam ham injaa st E quelli sono i miei due figli Do farsendam anjaha hastid? Do farsendam anjaha hastid? 50 Languages 22 Bistoduo Small talk Chiacchiere 3 Guftegui kutah 3 Leifuma Shoma siigar mi kishid? Una volta fumavo Dar gozashte bale Ma adesso non fumo piu Amma hala diger siigar n'mi kisham La disturbo sefumo? Aziyat mi shobid agar man siigar be kisham? Aziyat mi shobid agar man siigar be kisham? No, affatto Non mi disturbo Non mi disturbo Muzahehmati berae man n'ist Muzahehmati berae man n'ist Bevee qualkosa? Bevee qualkosa? Shoma čizimi n'ošiid? Shoma čizimi n'ošiid? Un kognak Yek gilaas kognak Yek gilaas kognak No, piutasto una birra Neh, terjih mi dham yek abjo benošem Neh, terjih mi dham yek abjo benošem Lei viagja molto? Shoma ziyad musafirat m'ekonid? Shoma ziyad musafirat m'ekonid? Sì, di solito sono viaggi di affari Bale, albette akstaran saferhai kari Bale, albette akstaran saferhai kari Ma adesso siamo in vacanza Amma hala inja taatilat man ra mi guzaranim Amma hala inja taatilat man ra mi guzaranim Che afa Inja čeqadr garmast Inja čeqadr garmast Sì, oggi fa veramente caldo Bale, emruz vagaan garmast Andiamo fuori sul balcone Beravim ruye balcone Beravim ruye balcone Domani c'è una festa Farda inja yek mehmani bergazar mi shavad Farda inja yek mehmani bergazar mi shavad Ci viene anche lei? Shoma hem mi-aid? Shoma hem mi-aid? Sì, anche noi siamo invitati Bale, ma hem diavet shudè im FIFTY LANGUAGES Dove ha imparato lo spagnolo? Shoma kujo espanjaii yad gervetid? Shoma kujo espanjaii yad gervetid? Sa anche il portogese? Portogali hem baladid? Portogali hem baladid? Sì, e sa anche un po' di italiano Bale, italiai hem qadri baladid? Bale, italiai hem qadri baladid? Trovo che lo parla molto bene Le lingue sono piuttosto simili Zabonha tà hd ziadì shabih Zabonha tà hd ziadì shabih Riesco capirle bene Ma parlare e scrivere è difficile Ma soppert kardin La sua pronuncia è molto buona Lei ha un leggero accento Si può capire da dove viene Qual è la sua madrelingua? Zabane madriè schoma chi è? Che libri di test utilizza? In questo momento non ricordo come si chiama Non mi viene mental titolo La dimenticato Nama anra faramosh kardam Nama anra faramosh kardam 50 languages Hai perso l'autobus? Be' autobus neresiedi? Be' autobus neresiedi? Ti ho aspettato per mezz'ora Non hai con te un cellulare? La prossima volta Si puntuale La prossima volta Prendi un ombrello Daffa dìger Yè cattro Bà khudat biaver Daffa dìger Yè cattro Bà khudat biaver Domani sono libero Farda tattil Ci vediamo domani? Mi dispiace Domani non posso Muteassifam Man farda Wakt nedaram Muteassifam Man farda Wakt nedaram Hai già programmi Per questo Fine settimana? In akhere hafte Barnaamhe i dari? In akhere hafte Barnaamhe i dari? O hai già Qualche impenio? Io propongo Di vederci Questo fine settimana Man Pishnahat Mikonam Akhere hafte Hemdigar Ra Bebinim Facciamo Un Picnic? Andiamo in spiaggia? Mi khaii Be sahil Daria Beroiem Mi khaii Be sahil Daria Beroiem Andiamo in montagna? Mi khaii Be kuh Beroiem Mi khaii Be kuh Beroiem Ti passo Aprendere Inuficio Man Man Darbe Adare Dombalat Miaiem Ti passo Aprendere A casa Man Darbe Dombalat Miaiem Ti passo Aprendere Alla Firmata Dell'Autobus Man Jolo Eistgah Autobus Dombalat Miaiem Man Jolo Eistgah Autobus Dombalat Miaiem Copyright Good if a luck Fifty languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue Venticinque Bistopanj Bistopanj In città Dar-Shahr Dar-Shahr Vorrei Andare Alla Stazione Man Mi Khaaham Be Taraf Eistgah Qatar Beravam Man Mi Khaaham Be Taraf Eistgah Qatar Beravam Vorrei Andare Alla Ruporto Man Mi Khaaham Be Furodgah Beravam Man Mi Khaaham Be Furodgah Beravam Vorrei Andare In Centro Man Mi Khaaham Be Markez Shahr Beravam Man Mi Khaaham Be Markez Shahr Beravam Qual è La Strada Per La Stazione Che Giuri Be Istgah Qatar Beravam Che Giuri Be Istgah Qatar Beravam Qual è La Strada Per L'Aeroporto Che Giuri Be Furudgah Beravam Che Giuri Be Furudgah Beravam Qual è La Strada Per Il Centro Che Giuri Be Merkaz Shah Beravam Che Giuri Be Merkaz Shah Beravam Ha Bisogno Di Un Tassi Mi serve Una Piantina Della Città Mi Occorre Un Albergo Vorrei Noleggiare Una Makina Eccola Mia Carta Di Credito Eccola Vada nel centro storico Vada nel centro storico Vada nel centro storico Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages 26 Vada nel centro storico 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 Vedì quel lago li Questo uccello qui mi piace Questa albero qui mi piace Questa pietra qui mi piace Questo parco qui mi piace Questo giardino qui mi piace Questo fior qui mi piace Lo trovo carino Lo trovo interessante Lo trovo meraviglioso Lo trovo brutto Lo trovo noioso Ve nazzar mon, an kiselkönende ist Ve nazzar mon, an kiselkönende ist Lo trovo o ribille Ve nazzar mon, an wahşetnake ist Ve nazzar mon, an wahşetnake ist FIFTY LANGUAGES VENTISETTE BISTO HAVT In hotel. Arrivo. DER HOTEL. VORUD BE HOTEL. AUNA CAMERA LIBERA. ATAG KHALI DARİD? APRENOTATUNA CAMERA. MAN YIK ATAG REZERV KERDEM. MIKIAMO MULER. ASM MAN MULER AST. ABIZON YODINA CAMERA SINGULA. MAN BE YIK ATAG YIK TAKHT EHDYAC DAREM. A BIZON YODINA CAMERA DUPIA. MAN BE YIK ATAG DUTAKHT EHDYAC DAREM. MAN BE YIK ATAG DUTAKHT EHDYAC DAREM. MAN BE YIK ATAG. MAN BE YIK ATAG. MAN BE YIK ATAG. CANY ATAG. MAN BE YIK ATAG. MAN BE YIK ATAG. Posso vedere la camera? Mi tavonam otaqra bebinam? C'è un garage qui? In già parking darad? C'è una cassaforte qui? In già gav sanduq darad? In già gav sanduq darad? C'è un fax qui? In già fax vujud darad? Bene, prendo la camera. Bessiar khob, man otaqra mi gieram. Ecco le chiavi. Kelit-ha in già estand. Ecco i miei bagagli. Chamedane man in già est. A che ora c'è la colazione? A che ora c'è il pranzo? A che ora c'è la c'è nà? A che ora c'è il pranzo? A che ora c'è il pranzo? A che ora c'è il pranzo? Fifty Languages La duccia non funziona. Non c'è acqua calda. Abbe germ nè mì aïd. Abbe germ nè mì aïd. Può farla riparare? Mì tovani d' beraì t'amir ane aqdame kognìd? Mì tovani d' beraì t'amir ane aqdame kognìd? Nella stanza non c'è il telefono. Ataq faqed telefona est. Ataq faqed telefona est. Nella stanza non c'è il televisore. Nella stanza non c'è la terrazza. Nella stanza non c'è la terrazza. Ataq faqed telefona est. Nella camera c'è troppo rumore. Ataq faqed telefona è troppo piccola. Ataq faqed telefona è troppo piccola. Ataq faqed telefona è troppo piccola. Il riscaldamento non funziona. Shufaj kàr nè mì konna. Shufaj kàr nè mì konna. L'aria condizionata non funziona. Dastgahe tahviye kàr nè mì konna. Dastgahe tahviye kàr nè mì konna. Il televisore è guasto. Televizion kharab est. Televizion kharab est. Questa non mi piace. Ain mordi pasand man nìst. Ain mordi pasand man nìst. Questa è troppo cara. Ain borai man خیلی گرانa est. Aveti qualcosa di più economico? Cizze arzantari nè dà rìd? Cizze arzantari nè dà rìd? Che uno stello della gioventù qui vicino? Dar in nazdiki khabgahì وجud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì وجud dà rìd? C'è una pensione qui vicino? Dar in nazdiki panzioni وجud dà rìd? Dar in nazdiki panzioni وجud dà rìd? C'è un ristorante qui vicino? Dar in nazdiki khabgahì وجud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì وجud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì وجud dà rìd? Fifty languages Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? Lottifin' yèk ab madnì be mon bedahì dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? Dar in nazdiki khabgahì gud dà rìd? vorrei un caffè macchiato con lo zucchero per favore 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 vorrei un te vorrei un te al limone vorrei un te con latte a delle sigarette a delle sigarette a un portacenere mi manca una forchetta mi manca un coltello mi manca un cucchiaio man quashog nadaram man quashog nadaram fifty languages al ristorante un succo di mela per favore una limonata per favore un succo di pomodoro per favore vorrei un bicchiere divino roso vorrei un bicchiere divino bianco vorrei una bottiglia di spumante ti piace il pesce mahi dust dari ti piace il manzo ti piace la carne di maiale di maiale vorrei qualcosa cosa senza carne man yek gazaie bedune gusht mi khaham vorrei un piatto di verdura man yek man yek zarf sabzi mi khaham vorrei un piatto veloce mi khaham che tahiie an ziyad tool nekishad guzaie mi khaham che tahiie an ziyad tool nekishad lovoale con il riso guza raba barrenge mi khahid guza raba barrenge mi khahid lovoale con la pasta guza raba makaroni mi khahid guza raba makaroni mi khahid lovoale con le patate guza raba sib zamini mi khahid guza raba sib zamini mi khahid questo non mi piache guza خoshmazze niest guza خoshmazze niest il cibo e freddo guza sardast guza sardast questo non lo ordinato io man aina guza raba sifarish nedadam man aina guza raba sifarish nedadam trentuno trentuno sifarish surah mad man yek guza mi khahid mad mad yek guza mad 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 vorrei una minestra vorrei un dessert vorrei un gelato con panna vorrei della frutta o del formaggio vogliamo fare colazione vogliamo pranzare vogliamo cenare che cosa volete colazione panini con marmellate e miele tost con salumi e formaggio una frittata una frittata una frittata una frittata una frittata la frittata una frittata una frittata una frittata FIFTY LANGUAGES TRENTADUE SIO DO SIO DO AL RISTORANTE QUATTRO DAR RESTORAN CHAHAR DAR RESTORAN CHAHAR UNA PORTSIONE DI PATATINE CON KEČCAP YEC PORTS SİBZAMINIE SORGH KARDE BA KEČCAP YEC PORTS SİBZAMINIE SORGH KARDE BA KEČCAP E DUE PORTSIONI CON MAIONEZE WA DUE PORTS SİBZAMINIE SORGH KARDE BA SOSE MAIONEZ WA DUE PORTS SİBZAMINIE SORGH KARDE BA SOSE MAIONEZE E TRE PORTSIONI DI SALSICCHA CON SENAPE WA DUE PORTS SOSE MAIONEZE SORGH KARDE BA KEČCAP KEI VERDURE HAVETE? CHE NOĞ SABZI DARID? CHE NOĞ SABZI DARID? HAVETE FAGIOLI? LUBIA DARID? LUBIA DARID? HAVETE CAVOLFIORE? GOLCALAM DARID? GOLCALAM DARID? MI PIACE MOLTO IL MAIS MAN ZORRAT DOOST DARAM BOKHORAM MAN ZORRAT DOOST DARAM BOKHORAM MI PIACCIONO MOLTO I CETRIOLI MAN KHIAR DOOST DARAM BOKHORAM MAN KHIYAR DOOST DARAM BOKHORAM MIPIACCIONO MOLTO I PAMO DARI MAN GوجE FARENGY DOOST DARAM BOKHORAM MAN GوجE FARENGY DOOST DARAM BOKHORAM PIACE ANGLEI ILPARRO PIACE CHE DOOST DARID BOKHORID? TORŠI KALAM DOOST DARID BOKHORID? PIACCIONO ANCHE A LEI I CRAWDI? TORŠI E CALAM DOOST DARID BOKHORID? ADAS DOOST DARID BOKHORID? PIACCIONO ANCHE A LEI LE LENTICCHIE? ADAS DOOST DARID BOKHORID? HAWIJ DOOST DARID BOKHORID? PIACCIONO ANCHE A TE LE CAROTE? HAWIJ DOOST DARID BOKHORID? BORUCLI DOOST DARID BOKHORID? PIACCIONO ANCHE A TE I BROCCOLI BORUCLI DOOST DARID BOKHORID? BORUCLI DOOST DARID BOKHORID? PIACCIONO ANCHE A TE I PEPERONI FILFIL SABZ DOOST DARID BOKHORID? FILFIL SABZ DOOST DARID BOKHORID? NON MIPIACCIONO LE CHI BOLLE MEN PIYAS DOOST NEDARAM NON MIPIACCIONO LE OLIVE MEN AZ ZEYTUN CHOCHEM NEMI AYAD MEN AZ ZEYTUN CHOCHEM NEMI AYAD NON MIPIACCIONO E FUNGY MEN AZ GARC CHOCHEM NEMI AYAD MEN AZ GARC CHOCHEM NEMI AYAD FIFTY LANGUAGES TRENTATRE SI O SE SI O SE IN STAZIONE DAR EASTGAHE KATAR DAR EASTGAHE KATAR QUANDO PARTE IL PROSSIMO TRENO PER BERLINO? QUANDO PARTE IL PROSSIMO TRENO PER PARIGI? QUANDO PARTE IL PROSSIMO TRENO PER LONDRA? QUANDO PARTE IL PROSSIMO A che ora parte il treno per Boudapest? A che ora parte il treno per Boudapest? Quattare, Boudapest, sa'ate c'and' haricat m'icona? Vorrei un biletto per Madrid. Vorrei un biletto per Praga. Vorrei un biletto per Boudapest. A che ora arriva il treno a Vienna? A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Amsterdame? Devo cambiare? Da quale binario parte il treno? C'è un vagone letto nel treno. A che ora arriva il treno a Boudapest? Solo andata per Bruxelles. Solo ritorno per Copenaghen. Quanto costum posto nel vagone letto? A che ora arriva il treno a Boudapest? A che ora arriva il treno a Boudapest? Sì e 4. Sì e 4. Sul treno. Dar Gattar. Dar Gattar. È questo il treno per Berlino? A che ora arriva il treno a Boudapest? A che ora arriva il treno a Boudapest? Quando parta il treno? A che ora arriva il treno a Boudapest? 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 Dov'è il wagone letto? Il wagone letto è in coda al treno E dov'è il wagone ristorante? In cima al treno Posso dormire sotto? Posso dormire al centro? Posso dormire sopra? Quando arriveremo alla frontiera? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? E in ritardo il treno? Quattar t'akhiere d'arè? 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 35 35 35 All'aeroporto Vorrei per notare un volo per a te ne Mon mi khóaim yek perwaz be' Aten reservo kunam En volo diretto Per favore, un posto vicino al finestrino non fumatori Vorrei confermare la mia prenotazione Vorrei cambiare la mia prenotazione Quando parte il prossimo aereo per Roma? Ci sono ancora due posti liberi? No, abbiamo solo un posto libero No, ma solo un posto libero No, ma solo un posto libero Quando atterriamo? Quei forud mi haim? Quando arriviamo? Quando parte l'autobus per il centro? Che moque yek autobus be' markez shahr mi ravad? Che moque yek autobus be' markez shahr mi ravad? È sua questa valigia? È sua questa borsa? È sua questo bagaglio? Quanto bagaglio posso portare? Che m'eqdar bar mitovanem ba khud biavaram? Venti chili Beast kilo Beast kilo Come? Solo venti chili? Ci farà beast kilo? Ci farà beast kilo? Copyright Good as a luck 50 languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue 36 Sio Shesh Trasporti pubblici Oburomorure darun shahri Oburomorure darun shahri Dov'è la fermata dell'autobus? Istgahe autobus kogjaast? Istgahe autobus kogjaast? Quale autobus va in centro? Kodam autobus be merkez shahri miroved? Kodam autobus be merkez shahri miroved? Ke linea devoprendere Dov'o kambiare? Dov'o kambiare? Dov'o kambiare? Quanto costa un biljetto? Quanto costa un biljetto? Qeimete yek belit čandast? Qeimete yek belit čandast? Quante fermate ci sono? Fino in centro? Tā merkez shahri čand istgahast? Tā merkez shahri čand istgahast? Deve schendere qui? Šuma baید اینجا پیاده شوید? Šuma baید اینجا پیاده شوید? Deve schendere dietro La prossima metropolitana Arriva fra cinque minuti Metro'y بعدی Pange dقیقه دیگر می آید Il prossimo tram Passa fra dieci minuti Metro'y بعدی Deh dقیقه دیگر می آید Il prossimo autobus Passa fra quindici minuti Autobus بعدی Panzdeh dقیقه دیگر می آید Autobus بعدی Panzdeh dقیقه دیگر می آید Quando parte l'ultima metropolitana? آخرین مترو کی حرکت می کند? آخرین مترو کی حرکت می کند? Quando parte L'ultimo autobus آخرین autobus کی حرکت می کند? آخرین autobus کی حرکت می کند? Ah, il biljetto شما belیت دارید? شما belیت دارید? il biljetto نا نونچلا belیت نه ندارم belیت نه ندارم پس باید جریمه بپردازید پس باید جریمه بپردازید پس برایمه بپردازید تrentasette سی و هفت سی و هفت این viaggio در راه در راه لوی وا این موتوچیکلتا او با موتورسیکلت حرکت می کند او با موتورسیکلت حرکت می کند لوی وا این بیچیکلتا او با دوچرخه حرکت می کند او با دوچرخه حرکت می کند لوی وا پیدی او پیاده می رود او پیاده می رود لوی وا کن لنوه او با کشتی حرکت می کند او با کشتی حرکت می کند لوی وا این برکه او با قایق حرکت می کند او با قایق حرکت می کند لوی نواته او شنا می کند او شنا می کند اینجا جای خطرناکی است اینجا جای خطرناکی است اپریکولوزو فر الاوتوستاب دا سولی هایا تنهایی قدم زدن خطرناک است? اپریکولوزو پسجر دا سولی دی نت هایا شبها به پیاده روی رفتن خطرناک است? چی سیمو پرسی ما راه را اشتباه رفته ایم ما راه را اشتباه رفته ایم ابیامو زبگیتو ستراد ما در مسیر اشتباه هستیم ما در مسیر اشتباه هستیم دوبیامو ترنر ایندیترو ما باید برگردیم ما باید برگردیم دوه پسیامو پرخیجیر اینجا کجا میشهد پرککارد؟ اینجا کجا میشهد پرککارد؟ چی این پرخیجو؟ اینجا پرکیگ و جود دارد؟ اینجا پرکیگ و جود دارد؟ چه مددت میتوان اینجا پرککارد؟ چه مددت میتوان اینجا پرککارد؟ لیشیه؟ شما اسکی میکنید؟ ساله کن لسکیلیفت؟ با تلسیش بالا می روید؟ با تلسیش بالا می روید؟ سیپاس تانو لجاری دلیشی؟ آیا میتوان اینجا چوب اسکی کرای کرد؟ آیا میتوان اینجا چوب اسکی کرای کرد؟ فیفتی لانگویجیز ترینططط سیو هشت سیو هشت این تاکسی تاکسی دار تاکسی دار تاکسی می چیامی این تاکسی پر فوری؟ لطفاً یک تاکسی صدا کنید لطفاً یک تاکسی صدا کنید ¿Cuánto costa fino alla stazione؟ تا استگاه قطار کرای چقدر است؟ تا استگاه قطار کرای چقدر است؟ ¿Cuánto costa fino alla aeroporto؟ تا فورودگاه قطار کرای چقدر است؟ تا فورودگاه قطار کرای چقدر است؟ سمpre دیریتو، پریگو لطفاً مستقیم براوید لطفاً مستقیم براوید کی جیری دستر، پر فوری لطفاً انجا سمت راست براوید لطفاً انجا سمت راست براوید لطفاً انجا سر نبش سمت چپ براوید او فرتا من اجاله دارم من اجاله دارم او تیمپو من وقت دارم من وقت دارم ودا پیو پیانو، پر فورید لطفاً آهسته تر براوید لطفاً آهسته تر براوید سی فرمی کی، پر فورید لطفاً انجا توقف کنید لطفاً انجا توقف کنید اسپتی اون مومنتو، پر فورید لطفاً یک لحظه سبر کنید لطفاً یک لحظه سبر کنید ریتورنو سوبیتو من الان برمی گردم من الان برمی گردم میدیا لریچه بوتا، پر فورید لطفاً یک قبض رسید به من بدهید لطفاً یک قبض رسید به من بدهید نونا سپیچولی من پول خورد ندارم من پول خورد ندارم و بینه کسی ال ریستو ای پر لی درست است، بقیه پول برای خودتان درست است، بقیه پول برای خودتان میپارتی اکوستو اندیریچو مرا به این آدرس ببرید مرا به این آدرس ببرید میپارتی المیو البرگو مرا به هتلم ببرید مرا به هتلم ببرید میپارتی الاسپیاجه مرا به ساحل ببرید مرا به ساحل ببرید مرا به ساحل ببرید مرا به ساحل ببرید 50 Lenguages Come il prossimo distributore di benzina? Pomphe benzine بعدì kujà ist? A bucato La sticam pencher chude ast Po camgar la ruota? Mi towanied charche moshin rao avoz koneid? Mi towanied charche moshin rao avoz koneid? Mi a corrono alcuni litr di gazaria? Man be chand litr gazoil niyaz dàram Afinito la benzina Man digar benzine nedàram A un bidone di rezerva Galone zakhirhe benzine hemraha dàrìd? Galone zakhirhe benzine hemraha dàrìd? Dove pass a telefonare Kujà mi towanem telfon bè zanem? Kujà mi towanem telfon bè zanem? Abizona di noto so corso Man ahtiāj be moshin e imdād khudro Jahate buksel kardan dàram Cercon oficina Man donbale yek tāmīrgah hastam Man donbale yek tāmīrgah hastam Čestat un incidente? Yek tassaduf rukhdadhe ast Dove el telfonu piu vicino Baje telfonu ba'di kujà ast? Baje telfonu ba'di kujà ast? Aon celulare Telfonu hemraha nazdatan hast Telfonu hemraha nazdatan hast Čokor rea yudo Ma ahtiāj be kumak dārīm Ma ahtiāj be kumak dārīm Čiam yun medīko Yek doktor صدا kunīd Čiam yun la polizia Polis ra khabar kunīd Polis ra khabar kunīd I documenti per fawore Madare ketan lutfān Madare ketan lutfān La patente per fawore Lutfān guvahi nāmei khudra nishan dahīd Il libretto di cirkolazione per fawore Lutfān kārt khudra rā nishan dahīd Lutfān kārt khudra rā nishan dahīd Lutfān valcīd Fifty languages Quaranta C'è l' C'è l' Chi è dare indicazioni? Sòal d'ar mord de mesire haricat Sòal d'ar mord de mesire haricat Mi scusì Mi può aiutare? Mi tovanii di me aiutare? C'è un buon ristorante da queste parti? D'ar in atrof ristorante khobie wujud d'arad? Qui all'angolo giri a sinistra Sare nabsh samtachap bera vidi Poi segua diritto per un po' Dopo cento metri Giri a destra Poi anche prendere l'autobus Poi anche prendere il tramvia Il tram Bà metroham mi tovaniit bera vidi Bà metroham mi tovaniit bera vidi Poi anche seguirmi in makina Come arrivo all'ostadio? A traversi il ponte Passi il tunnel Passi il tunnel Prenda la prima strada ad estra Poi al prossimo incrocio Continui diritto Scusi, come arrivo all'aeroporto? E' meglio se prende la metropolitana Arrivì fino all'ultima fermata Tā áخرin istgah bera vidi Tā áخرin istgah bera vidi Fifty Languages Quarantuno Cehelo yek Orientamento Gehatiabi Dove si trova l'ente per il turismo? Sazmane gardischgarī kujāst? Sazmane gardischgarī kujāst? Ha una pianta della città per me? Yek nakuši šahri beraie man dārīd? Si può pranotare una camera qui? Mie tawane inja yek otaq dèr hootel rizerv kard? Mie tawane inja yek otaq dèr hootel rizerv kard? Dove il centro istorico? Bafte qadīm shahri kujāst? Bafte qadīm shahri kujāst? Dove il duomo? Kelisaie bozorg kujāst? Kelisaie bozorg kujāst? Dov'e il muzeo? Muze kujāst? Muze kujāst? Dove si possono comprare dei franco bollī? Dov'e si possono comprare dei fiori? Dov'e si possono comprare dei biglietti? Kujā mi tawane belīt kharīd? Kujā mi tawane belīt kharīd? Dov'e il porto? Bandar kujāst? Bandar kujāst? Dov'e il mercato? Bazar kujāst? Bazar kujāst? Dov'e il castello? Qasr kujāst? Qasr kujāst? Quando comincia la visita guidata? Tu re bazdīd kei shorū mi shavad? Tu re bazdīd kei shorū mi shavad? Quando finisce la visita guidata? Tu re bazdīd kei tamām mi shavad? Tu re bazdīd kei tamām mi shavad? Quanto dura la visita guidata? Tu re bazdīd kei tamām mi shavad? 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 Tu re bazdīd kei tamong mi shavad? 50 Languages 42 42 Vizita della città È aperto il mercato la domenica È aperto la fiera il lunedì Namaiescà, due chambi ha, baza è È aperto l'esposizione il martedì Namaiescà, tre chambi ha, baza è Namaiescà, tre chambi ha, baza è È aperto il mercato il mercato È aperto il mercato il mercato Baghi vahe, tre chambi ha, baza è Baghi vahe, tre chambi ha, baza è È aperto il museo il giovedì Muzè, cinque chambi ha, baza è Muzè, cinque chambi ha, baza è È aperto la galleria il venerdì Galerie, giambi ha, baza è È apermesso fotograffare Aks griften, mujaz è Si deve pagare l'ingresso Quanto costa l'ingresso? Belite vorudì, c'è un sconto per gruppi? Tخfieff beraì gorooh Vujud dàrèd? Tخfieff beraì gorooh Vujud dàrèd? Che unos sconto per bambini? Tخfieff beraì baccihà Vujud dàrèd? Tخfieff beraì baccihà Vujud dàrèd? Che unos sconto per studenti? Tخfieff beraì dàrèd? Tخfieff beraì dàrèd? Tخfieff beraì dàrèd? Tخfieff beraì dàrèd? Di che edificio si tratta? In che sàghtemani è? In che sàghtemani è? Quando è stato costruito questo edificio? Qui l'ha costruito? Che kassi sàghtemani rà banna kerde è? Mi interesso di arquitectura Mi interesso di arte Mi interesso di pittura Mi interesso di arte Mi interesso di arte Mi interesso di arte Quarantatrè C'è lo se C'è lo se Allo zoo Dar bòghe vahsh Lì c'è lo zoo Lì ci sono le giraffe Dove sono gli orsi? Dove sono gli elefanti? Dove sono gli elefanti? Dove sono i serpenti? Dove sono gli elefanti? 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 Io ho una macchina fotografica Dove sono gli elefanti? Dove sono gli elefanti? Dove sono gli elefanti? Dove sono i pinguini? Dove sono i kanguri? Dove sono i rinoceronti? Lì c'è una caffetteria. Lì c'è un ristorante. Lì c'è un ristorante. Dove sono i cammelli? Chotorha kujà hestand? Dove sono i goril e le zèbre? Gorilha vore kharha kujà hestand? Gorilha vore kharha kujà hestand? Dove sono le tigri e i cocodrilli? Beberha vore kharha kujà hestand? Lì c'è un ristorante. 50 languages. Lì c'è un ristorante. 44 C'è un locale notturno qui vicino? C'è una taverna qui vicino? C'è un ristorante. C'è un ristorante. C'è un ristorante. al cinema bernamme e amm shab sinema chi èst? bernamme e amm shab sinema chi èst? cosa c'è stasera alla televisione? amm shab television chi nishan mi dahad? amm shab television chi nishan mi dahad? ci sono ancora biglietti per il teatro? anuz belite teatro mوجud èst? anuz belite teatro mوجud èst? ci sono ancora biglietti per il cinema? anuz belite cinema mوجud èst? anuz belite cinema mوجud èst? ci sono ancora biglietti per la partita? anuz belite beraio tamassai bazi fútbol mوجud èst? anuz belite beraio tamassai bazi fútbol mوجud èst? voglio sedermi proprio in fondo man dust daram kamilan agab ben shinam man dust daram kamilan agab ben shinam voglio sedermi in un posto al centro voglio sedermi in prima fila man dust daram kamilan gelo ben shinam man dust daram kamilan gelo ben shinam che cosa mi puo consigliare quando comincia lo spettacolo c'è un campo da tennis qui vicino? C'è una piscina quibicino? 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 Il film non era noioso. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. Come era la colonna sonora? C'è una piscina quibicino? C'è una piscina quibicino? 50 languages 46 C'è una piscina quibicino? C'è una piscina quibicino? C'è una piscina quibicino? C'è una piscina quibicino? C'è una piscina? Viene spesso qui No, è la prima volta Non ci ero mai stato Balla Forse più tardi Non sa ballare molto bene È molto semplice Io lo faccio vedere Io lo insegnio io No, forse una altra volta Nè, tragi e mi da'am Zammani diagr bera'xam Nè, tragi e mi da'am Zammani diagr bera'xam Sta aspettando qualcuno? Montezer kassi hasti? Montezer kassi hasti? Si, il mio amico Eccolo che viene Unjust D'arad mi ayad Unjust D'arad mi ayad Fifty Languages Quarantasette Preparativi del viaggio Tadaruk e safar Devi preparare le nostre valigie Non devi dimenticare nulla Niente Non devi dimenticare il passaporto Non devi dimenticare il biglietto Non devi dimenticare il biglietto Chec'haie musafirati ra Faramush Nekon Chec'haie musafirati ra Faramush Nekon Portati la crema solare Kreme Zedda Aftab Ra Barda'r Kreme Zedda Aftab Ra Barda'r Portati Portati gli occhiali da sole Eynac Aftab Ra Barda'r Eynac Aftab Ra Barda'r Portati il cappello per il sole Kula'r Kula'r Aftab Gira Barda'r Kula'r Aftab Gira Barda'r Voi portati una cartina stradale Mi khaii nxchei khiaabonha ra ba khud beberi? Mi khaii nxchei khiaabonha ra ba khud beberi? Voi portati una guida? Non dimenticare i pantaloni, le camiche e i calcini Havasat be shalwarha, pirahanha, vajurabha bashad Havasat be shalwarha, pirahanha, vajurabha bashad Non dimenticare le cravatte, le cinture e le giacche Non dimenticare i pigiami, le camiche da notte e le magliette Havasat be lebashabha, pirahanha, vajurabha bashad Havasat be lebashabha, pirahanha, vajurabha bashad Hai bisogno di scarpe, sandali e stivali Hai bisogno di fazzoletti di carta, sapone e del tagliaunghi Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio L'azim d'arì. 50 Languages Quarantotto C'è l'ho hașt C'è l'ho hașt Attività in vacanza Fa'aliyat-ha-hi-ta-ti-la-ti Fa'aliyat-ha-hi-ta-ti-la-ti E pulita las piaggia Sahil tamizah est Sipofare il bagno Mi-toban anjah shena kard? Mi-toban anjah shena kard? Non è pericoloso fare il bagno li Shena kardan d'ar anjah khaternaak n'ist Shena kardan d'ar anjah khaternaak n'ist Sipo no le jare un ombrellone? Mi-toban d'ar inja yek četre aftabì keraie kard? Mi-toban d'ar inja yek četre aftabì keraie kard? Si puan no le jare un asdraio? Mi-toban inja yek sandalye raahati keraie kard? Mi-toban inja yek sandalye raahati keraie kard? Si puan no le jare una barca? Mi-toban inja yek qaieq keraie kard? Mi-toban inja yek qaieq keraie kard? Mi-toban inja yek n'ats Si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori Si possono noleggiare degli sci d'acqua Sono ancora principiante Sono di livello medio Me la kawo Dove la sciovia? Balaver eski kuj'a ist? Aipurtato yishi Tu وسail eski hemroh dari? Hai portato gli scarponi da sci? Kafše eski hemroh dari? Kafše eski hemroh dari? Copyright, good if the luck. 50 languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue. 49 C'hello noh Sport Varzish Fai dello sport? Tمرin mi koni? Tمرin mi koni? Vado in una societat sportiva. Man be yek bashgahe varzishi mi ravam. Man be yek bashgahe varzishi mi ravam. Giochiamo a calcio. Ma futbol basi mi konim. Ma futbol basi mi konim. Qualche volta nuotiamo. Gahi ogat shena mi konim. Gahi ogat shena mi konim. Oppure andiamo in bicicletta. Nella nostra città c'è uno stadio. D'ar shahre ma yek estadiom futbol wujud darad. D'ar shahre ma yek estadiom futbol wujud darad. C'è anche una piscina con la sauna. Yek estachr ba sonaham vujud darad. Yek estachr ba sonaham vujud darad. E c'è un campo da golf. Va yek zamine golf ham vujud darad. Va yek zamine golf ham vujud darad. Cosa c'è in televizione? Televizion ce barnaam e i darad? Televizion ce barnaam e i darad? Stanno dando una partita di pallone. Al'an yek basi futbol dar hale pachsha est. Al'an yek basi futbol dar hale pachsha est. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. Tiem allemand dar moqabile tiem engelis bazimikonad. Tiem allemand dar moqabile tiem engelis bazimikonad. Chi vince? Che kasi barande mi shavad? Che kasi barande mi shavad? Non ne ho idea. Al momento sono pari. Fe'lan bazimusavist. L'arbitro viene dal belgio. Davar az belgica est. Davar az belgica est. Adesso c'è un rigore. Al'an penalti shot. Al'an penalti shot. Gol. Uno a zero. Gol. Jek barhic. Gol. Jek barhic. Heech. Visita il sito www.book2.de 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 per il libro e per i testi. 50 Languages 50 Languages 50 Languages 50 Languages 50 50 50 In pishina D'ar istakhre shena D'ar istakhre shena D'ar istakhre shena Aji fakaldo Aji voglia di andare a nuotare? D'ar istakhre shena D'ar istakhre shena D'ar istakhre shena Aji un asciugamano? Hole d'ari? Hole d'ari Aji un kostume da bagno da uomo? Maio d'ari? Maio d'ari Aji un kostume da bagno da donna? Le bose shena d'ari? Le bose shena d'ari? Sai nuotare? Shena cardan baladi? Shena cardan baladi? Sai andare sott'acqua? Kavwasi baladi? Kavwasi baladi? Sai tuffarti in acqua? Mi tawani shirje bezani? Mi tawani shirje bezani? Dov'è la doccia? Dush kujast? Dush kujast? Dov'è lo spogliatoio? Raktkan kujast? Raktkan kujast? Dov'è sono gli occhialini? Ajinak shena kujast? Ajinak shena kujast? E fonda l'acqua? Aab istagr amigast? Aab istagr amigast? Aab istagr amigast? E pulita l'acqua? Aab tamizast? Aab tamizast? E calda l'acqua? Aab germast? Aab germast? Aafreddo Man daram yachmizanam L'acqua è troppo fredda Aab ziyadì sardast Aab ziyadì sardast Io ora esco dal l'acqua Man dìgar azz'aab kharaj mi-shavam Man dìgar azz'aab kharaj mi-shavam 50 Languages 51 51 51 Far espese Chariide maiahtaj Chariide maiahtaj Voglio andare in biblioteca Man mi-khaham be-kitab-khane beravam Man mi-khaham be-kitab-khane beravam Voglio andare in libreria Man mi-khaham be-kitab-furushi beravam Man mi-khaham be-kitab-furushi beravam Voglio andare all'edicola Man mi-khaham be-kiusk beravam Man mi-khaham be-kiusk beravam Voglio prendere in prestito un libro Man mi-khaham be-kitab beravam Voglio comprare un libro Man mi-khaham be-kitab beravam Man mi-khaham be-kitab beravam Voglio comprare un giornale Man mi-khaham be-kitab beravam Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro Man mi-khaham be-kitab-khane beravam Man mi-khaham be-kitab-furushi beravam Man mi-khaham be-kitab-furushi beravam Ta-yek kitab beravam Voglio andare all'edicola per comprare un giornale Voglio andare dall'ottico Voglio andare dal fornaio Voglio comprare degli occhiali Voglio comprare frutta e verdura Voglio comprare panini e pane Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali Voglio andare al supermercato per comprare frutta e verdura Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane Voglio andare dal fornaio per comprare Voglio andare dal fornaio per comprare 50 languages Andiamo in un centro commerciale? Devo fare spese Voglio andare dal fornoio per comprare Voglio andare dal fornoio per comprare Voglio andare dal fornoio per comprare Voglio fare molti acquisti Ho bisogno di buste e carta da lettere A bisogno di penne e penarelli Dove sono imobili Moblha kujà hestand? Moblha kujà hestand? Ho bisogno di un armadio e di un coma A bisogno di un ascrivani e di un oscaffale Dove sono i giocattoli? A bisogno di una bambola e un orcacchiotto A bisogno di un oscaffale e di un ascriviti Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Abzaraalat kogja hastand? Ho bisogno di un martello e di pinze. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Dove è la gioia l'aria? Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di un braccialetto. Ho bisogno di un braccialetto. 50 Languages 53 Panjouho se Negozi Magázeha Cerchiamo un negozio d'articoli sportivi Ma dar giustoguie yek furouchkaahe varzashi hastím Ma dar giustoguie yek furouchkaahe varzashi hastím Cerchiamo una macelleria Ma dar giustoguie yek gassabi hastím Ma dar giustoguie yek gassabi hastím Cerchiamo una farmacia Ma dar giustoguie yek daruchane hastím Ma dar giustoguie yek daruchane hastím Infatti vogliamo comprare un pallone Cion ke ma mi khahím kálbás becharím Cion ke ma mi khahím kálbás becharím Infatti vogliamo comprare delle medicine Cion ke ma mi khahím darú becharím Cion ke ma mi khahím darú becharím Cerchiamo negozio d'articoli sportivi Per comprare un pallone Cion ke ma mi khahím darú becharím Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine Cion ke ma mi khahím darú becharím Cerchiamo una macelleria Cerchiamo una macelleria Man dar giustoguie yek magáze akkási hastam Man dar giustoguie yek magáze akkási hastam Cerchiamo una pasticerie Man dar giustoguie yek ganadí hastam Man dar giustoguie yek ganadí hastam Infatti ho intenzione di comprare un anello Man dar giustoguie yek ganadí hastam Man dar giustoguie yek ganadí hastam Infatti ho intenzione di comprare un rullino Man dar giustoguie yek ganadí hastam Man dar giustoguie yek ganadí hastam Infatti ho intenzione di comprare una torta Man dar giustoguie yek ganadí hastam Man dar giustoguie yek ganadí hastam Cerchiamo una macelleria per comprare un anello Man dar giustoguie yek ganadí hastam Taa yek ganadí hastam Taa yek ganadí hastam Taa yek ganadí hastam Cercom fotografo per comprare un rullino Man dar giustoguie yek ganadí hastam Cercom una pasticceria per comprare una torta Man dar giustoguie yek ganadí hastam Taa yek ganadí hastam Taa yek ganadí hastam 50 Languages 54 Pangioho Chohar Fare spese Vorrei comprare un regalo Man mi khóam yek kadoo becharam Ma niente di troppo caro Amma na chandangirán Amma na chandangirán Forse una borsetta Una grande o una piccola Posso vedere un po' questa? Mi-tobanem ayn yeki-ra bebienem Mi-tobanem ayn yeki-ra bebienem È di pelle O è di materiale sintetico Di pelle naturalmente Questa è di ottima qualità E la borsetta è veramente a un buon prezzo Questa mi-piace Posso cambiarla eventualmente? Chiaid be-kha-ham an-ra av-az-kunem Emkân-dare-ad Chiaid be-kha-ham an-ra av-az-kunem Emkân-dare-ad Naturalmente Bel-e-kha-ham an-ra av-az-kunem Bel-e-kha-ham an-ra av-az-kunem Facciamo un pacco regalo An-ra av-az-kunem An-ra av-az-kunem An-ra av-az-kunem An-ra av-az-kunem Be-kha-ham an-ra av-az-kunem Fifty Languages Cinquanta-cinque Pan-ja-ho-panj Pan-ja-ho-panj Lavorare Car Che lavoru fa? Chogl shoma čist? Mio marito è medico Chohar man pesesca ist Lavoro come infermiera part-time Man Nime-va-kht Be-onwane Parastar Karmikunem Man Nime-va-kht Be-onwane Parastar Karmikunem Presto Andremo In pensione Be-ri-im Ma le tasse sono alte. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. Cosa vorresti fare? Io vorrei diventare ingegnere. Io voglio studiare all'università. Io sono praticante. Non guadagno molto. Faccio un tirocinio all'estero. Questo è il mio capo. Ho dei colleghi gentili, simpatici. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. Sono disoccupato da un anno ormai. In questo paese ci sono troppi disoccupati. In questa città è molto grande. In questa città è molto grande. 50 Languages 56 Ma temaiole bei anjame kari rà dàrìm. Ma temaiole bei anjame kari rà nè dàrìm. Aver paura Ters dàashten Ters dàashten A paura Man mi tersam Non a paura Man nemi tersam Aver tempo Vaght dàashten Lui ha tempo Lui ha tempo Uwaght dàrad Uwaght dàrad Lui non ha tempo Uwaght nadarad Uwaght nadarad Annoiarsi Biho se le budan Biho se le budan Lei si annoia Uw biho se le haste Uw biho se le haste Lei non si annoia Uw ho se le darad Uw ho se le darad Aver fame Goro se le bunni Uware se le đo Uw goro se le budan Uwai te fame Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Fifty Languages Cinquanta-Sette Panja-ho-haft Dal-Dottore Dar-Matab-e-Doktor Ho un appuntamento dal-Dottore Man-va-te-Doktor-Daram Man-va-te-Doktor-Daram Ho l'appuntamento alle-dieci Vقت-man-saat-deh-mi-bashad Vقت-man-saat-deh-mi-bashad Come si chiama? Ism-e-shoma-chi-ist? Ism-e-shoma-chi-ist? Per cortesia, si accomodi nella sala d'atteza Il-Dottore arriva subito Che asicurazione ha? Che cosa può fare per lei? Che cosa può fare per lei? Prova di Dolori Dovele Femmele Ho sempre Dolori alla schiena Mal di schiena Ho spesso mal di testa Qualche volta ho mal di pancia Per favore, si metta a torso nudo Si sdrai sul lettino per cortesia La pressione è a posto Le faccio un'inietzione Le prescrivo delle medicine Le prescrivo una ricetta per la farmacia Le faccio un'iniettione Le faccio un'iniettione Cinquantotto Penja-ho-hash Penja-ho-hash Parti del corpo A'zaie badan Io disegno un uomo Man un'iniettione Prima, la testa Abteda, sar L'uomo indossa un cappello Non si vedono i capelli Mouha ra nemietovandid Non si vedono neanche leorecchie Non si vedono i capelli Gouche-ha ra ha nemietovandid Non si vedono neanche la schiena Kamarra ha nemietovandid Io disegno gli occhi e la bocca L'uomo è il nazo lungo Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo E' inverno e fa freddo Le braccia sono robuste Anche le gambe sono robuste L'uomo è fatto di neve Non indossa né pantaloni né cappotto Né soprabito Ma l'uomo non ha freddo Ma l'uomo non ha freddo Ma l'uomo non ha freddo E' un po'pazzo di neve L'uomo è un uomo E' un uomo è un uomo L'uomo non ha freddo All'eposte Dere adare poste Dere adare poste Dove la posta più vicina Dove è la prossima buca delle lettere? Sanduque poste Sanduque poste Baudì Kujast? Sanduque poste Baudì Kujast? Mi occorrono alcuni Franco bolli Per una lettera Quanto costa un franco bollo per l'America? Hazinei ersalbe america Che qadra ast? Hazinei ersalbe america Che qadra ast? Quanto pesa questo pacco? Vazne baste Che qadra ast? Vazne baste Che qadra ast? Posso spedirlo Per posta aerea? Mi tovanam anra Baposte Havaii Ersal konam Mi tovanam anra Baposte Havaii Ersal konam Quanto ci mette ad arrivare? Che qadra ast? Tull mi keshad Taa mahmule Be maqsad Beresad? Che qadra ast? Tull mi keshad Taa mahmule Be maqsad Beresad? Dove posso telefonare? Dove la prossima cabina telefonica Baje telefoni Be maqsad? Baje telefoni Be maqsad? A carte telefonica Carte telefon Dariid? Carte telefon Dariid? Ha un elenco telefonico? Daftar che telefon Dariid? Daftar che telefon Dariid? Sail prefisso per l'Austria Pish Shumaree Keshware Autrish Ra Mi daniid? Un momento che guardo Yek laze Mi rovam Negaah Konam Yek laze Mi rovam Negaah Konam La linea E sempre Kupada Telefon Hemishe Echgal Est Que numero Ha fatto Che Shumaree Era Gereftid? Che Shumaree Era Gereftid? Deve fare Prima lo zero Abteda Baid Adade Sifr Ra Begirid Abteda Baid Adade Sifr Ra Begirid 50 Languages Dere Banke Vorrei Apriere Un Conto Man Mi Khaaham Yek Hesab Baaz Konam Ecco Il Mio Passaporto In Pasporte Manast Ed Ecco Il Mio Indirizzo Va In Adrese Manast Vorrei Fare Un Versamento Sul Mio Conto Man Mi Khaaham Pool Be Hesabam Wariz Konam Vorrei Fare Un Prelievo Dal Mio Konto Man Mi Khaaham Az Hesabam Pool Berdash Konam Vorrei Ritirare L'estratto Conto Man Mi Khaaham Mujudie Hesabam Ra Begiram Mujudie Hesabam Ra Begiram Vorrei Incassare Un Assegno Vorrei Inkasare Un Travel Chek Man Mi Khaaham Yek Cheke Musaferati Ra Nagt Konam Quant'è La Tariffa Mabla Mabla Kārmuzd Chekadr Est? Dove Devo Firmare? Kujara Baid Imza Kujara Baid Imza Kujara Baid Imza Eccolo il mio numero di conto. Sono arrivati i soldi? Puglia è riuscita. Vorrei cambiare questi soldi. Mi occorrono dollari usa. Per favore, mi dìa banconote di piccolo taglio. C'è un bancomat qui? Quali carte di credito si accettano? C'è un bancomat qui si accettano? C'è un bancomat qui si accettano? C'è un bancomat qui si accettano? 61 61 Numeri ordinali Il primo mese è gennaio. Il secondo mese è febbraio. Dovvominmah febriè ast. Dovvominmah febriè ast. Il terzo mese è marzo. Sevvominmah mors ast. Sevvominmah mors ast. Il quarto mese è aprile. Il quarto mese è aprile. Il quinto mese è maggio. Panjomimmah me ast. Panjomimmah me ast. Il sesto mese è giugno. Sevi mesi sono mezzo anno. Sevi mesi sono mezzo anno. Sevi mesi sono mezzo anni. Gennaio febriè, marzo. Gennvier, febriè, marzo. Gennvier, febriè, marzo. Aprile, maggio e giugno. Avril, meh, joan. Il settimo mese è luglio L'ottavo mese è agosto Il nono mese è settembre Il decimo mese è ottobre L'ondicesimo mese è novembre Il dodicesimo mese è dicembre Un anno a dodici mesi Dovazdah maah, yek saal ra tashkiel mi da hand Dovazdah maah, yek saal ra tashkiel mi da hand Luglio, agosto, settembre Jujie, agost, septembre Ottobre, novembre e dicembre Octobre, novembre, desembre Octobre, novembre, desembre Copyright, good if the luck Fifty Languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue Sessanta due Shastu, do Shastu, do Fare domande, uno Soal kardan, yek Soal kardan, yek Imparare, studiare Yadgiri Yadgiri Gli allievi studiano molto? Dianeshamuzan ziyad dars mi khonend No, studiano poco Neh, anha ziyad dars nemi khonend Neh, anha ziyad dars nemi khonend Chiedere Sual kardan Sual kardan Chiede spesso all'insegnante Shoma az muallem ziyad sual mi khonend Shoma az muallem ziyad sual mi khonend No, non gli chiedo spesso Neh, man az ou ziyad sual nemi khonend Neh, man az ou ziyad sual nemi khonend Rispondere Giavab dadan Giavab dadan Risponda, per favore Lutfan giavab dahid Lutfan giavab dahid Io rispondo Man giavab midaham Man giavab midaham Lavorare Kar kardan Kar kardan Lui sta lavorando O alan kar mikonad O alan kar mikonad Si, sta lavorando Bleh, o alan kar mikonad Benire Aamadan Aamadan Viene Shoma Shoma Miaid Si, vengamo subito Bleh, ma alan Miaiim Bleh, ma alan Miaiim Abitare Zendegi Kerden Zendegi Kerden Abita a Berlino Shoma dar berlin Zendegi Mie koneid Shoma dar berlin Zendegi Mie koneid Si, abito A berlino Bleh, man dar berlin Zendegi Mie koneam Bleh, man dar berlin Zendegi Mie koneam Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi Copyright Good for luck 50 languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue 63 63 63 63 63 63 63 Faridomande 2 Sual Kerden 2 Sual Kerden 2 A O Nabi 3 Man yek sargermi daram 4 Man yek sargermi daram 5 Joko at tenis Man tenis bazi mīkunam 5 tenis bazi mīkunam Dove el campo da tenis Zemine tenis kujast? Zemine tenis kujast? zemine fútbal kujast? zemine zemine futbal kujast? mi fa male il braccio dastam dard mikonad dastam dard mikonad mi fanno male anche il piede e la mano dastu paiam ham dard mikonand dast wa paiam ham dard mikonand c'è un dottore? yek doktor kujast? yek doktor kujast? alla makkina man yek kudro daram io ho anche una moto man yek motorsiklet ham daram dove travum parkeggio? parking kujast? parking kujast? ho un maglione man yek poliver daram man yek poliver daram io ho anche una giacca e un paio di jeans man yek kaapchen wa yek shalvar jean niz daram man yek kaapchen wa yek shalvar jean niz daram dove travo una lavatrice? mashine lebas shuji kujast? mashine lebas shuji kujast? io ho un piatto man yek bush kaap daram man yek bush kaap daram io ho un coltello una forchetta e un cucchiaio man yek kard yek chan gal ve yek qashog daram man yek kard yek chan gal ve yek qashog daram dove sono sale e bebe nama kj vah felfel kujast nama kj vah felfel kujast visita il sito www.book2.de 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 per il libro e per i testi sessantaquattro 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 negazione uno nafi yek nafi yek non capisco questa parola man kalamera nemifahmam man kalamera nemifahmam non capisco la frase man giomlerò nemifahmam man giomlerò nemifahmam non capisco il significato man ma'nie onro nemifahmam man ma'nie onro nemifahmam l'insegnante moallem moallem capisce l'insegnante capisce l'insegnante gufthe-ha-hi-khanom ma'l-him-ra mi-fahmied gufthe-ha-hi-khanom ma'l-him-ra mi-fahmied si la capisco bene bel-he gufthe-ha-hi-a-hi-o-ra mi-fahmam bel-he gufthe-ha-hi-o-ra mi-fahmam l'insegnante mi-fahmied mi-fahmied no non la capisco molto bene Nuh, harf-hai anharà ançonnone khoub nemi fahmem La mica, la ragazza Dost, d'oghtar A, una mica? A, una ragazza? Sì, c'è l'ho Bleh, dàrèm La filia Doghter A una filia No, non, nèo Nè, nè dàrèm Nè, nè dàrèm Fifty languages Sessanta cinque Shastu panj Shastu panj Negazione due Nafi do È caro l'anello In halqe gerona ast In halqe gerona ast No, costa solo cento euro Nè, qiemet in halqe Tanha sad euro ast Nè, qiemet in halqe Tanha sad euro ast Ma io ne ho solo cinquanta Amma man faqat panjah euro daram Amma man faqat panjah euro daram Sei prontu? Tu carat tamam shod? Tu carat tamam shod? No, non ancora Nè, hanuz nè Sono prontu fra un momento Amma chand lahze y digar Tamam mi shod Amma chand lahze y digar Tamam mi shod Vorresti ancora della minestra? Boaz ham sup mi khawi? Boaz ham sup mi khawi? No, non ne voglio piu Nè, digar ne mi khawem Nè, digar ne mi khawem Ma ancora un gelato Amma yek bastani mi khawem Amma yek bastani mi khawem Abiti qui da tanto tempo? Khayli vaqt hast inja zendegi mi koni? Khayli vaqt hast inja zendegi mi koni? No, solo da un mese Nè, tazè yek maha ist Nè, tazè yek maha ist Ma conosco jam multa gente Amma ba khayli az merdom áşna shodem Amma ba khayli az merdom áşna shodem Vaya kaza domani? Farda mi ravi khane? Farda mi ravi khane? No, solo per il fine settimana Nè, ákere hafte mi ravi Nè, ákere hafte mi ravi Ma io ritorno già domenika Amma man yek shambè bermi gardem Amma man yek shambè bermi gardem Tua figlia è già adulta? Nè, dokhtere to buzurk shodhe ast Nè, ákere tò buzurk shodhe ast Ma lei ajau n'miko Amma o yek dùst-pesar dà red Amma o yek dùst-pesar dà red Fifty languages Sessanta-sei Shastu-shes Shastu-shes Pronomi possessivi Uno Zamaire milky Yek Zamaire milky Yek Io Il mio Lamia Man Ma le man Non trovo lamia kiave Non trovo il mio biglietto Non belite autobusam rà Pieda n'mi kona Non belite autobusam rà Pieda n'mi kona Tu Tu Il tuo La tua Tu Male tu Tu Male tu Hai trovato la tua kiave? Che lidat rà Pieda kardi? Che lidat rà Pieda kardi? Hai trovato il tuo biglietto? Belite autobusat rà Pieda kardi? Belite autobusat rà Pieda kardi? Lui Il suo La sua O Male o O Male o Sai dove la sua kiave? Mi dani ke lidat o kujast? Mi dani ke lidat o kujast? Sai dove il suo biglietto? Mi dani belite autobusat rà Kujast? Mi dani belite autobusat kujast? Lei Il suo La sua O Male o Male o Il suo denaro È sparito Pulash gom shude ast Pulash gom shude ast E anche la sua Peder bambini? Peder bambini? Bambini dove il vostro papà? Bacchè ha, paderetan kuj'a è? Bacchè ha, paderetan kuj'a è? Bambini dove la vostra mamma? Bacchè ha, paderetan kuj'a è? Bacchè ha, paderetan kuj'a è? Fifty languages Sessanta sette Shastu haft Shastu haft Pronomi possessivi, due Zamaer milki, due Zamaer milki, due Gli occhiali Eynak Lui ha dimenticato i suoi occhiali O, Eynakash ra faramush karde Ma dove sono i suoi occhiali? Eynakash kuj'a ist? Eynakash kuj'a ist? L'orologio Il suo orologio è rotto Sato o, خarabast L'orologio è appeso alla parede Il passaporto Lui ha perso il suo passaporto O, passaporto O, passaportasch ra gom karde Ma dove il suo passaporto? Passaportasch kuj'a ist? Passaportasch kuj'a ist? Loro Il loro I bambini non riescono a trovare il loro genitori Bacch'ha non riescono a trovare il loro genitori Ma eccoli che vengono L'orologio è appunto a trovare il loro genitori L'orologio è appunto a trovare il loro genitori L'orologio è appunto a trovare il loro genitori Come stato il suo viaggio, signora Schmid? Chonome Schmid, misafiratetan c'egone bude? Dove suo marito, signora Schmid? Chonome Schmid, soharetan kuj'a istand? Chonome Schmid, soharetan kuj'a istand? Fifty Languages Sessantotto Shastu Hasht Shastu Hasht Grande, piccolo Posorg, kuj'ak Bozorg, kuj'ak Grande e piccolo Bozorg va kuj'ak Bozorg va kuj'ak L'elefante è grande Fil bozorgast Fil bozorgast Il topo è piccolo Mush kuj'akast Mush kuj'akast Skuro e chiaro Tariq va roshan Tariq va roshan La notte è scura Shab tariqast Shab tariqast Shab tariqast Shab tariqast Il giorno è chiaro Ruz rooshanast Ruz rooshanast Ruz rooshanast Giovane e vecchio Pir va javan Pir va javan Nostro nonno è molto anziano Pedar bozorg man Kheili pira Peder bozorg man Kheili pira Settant anni fa Era ancora giovane Bello e brutto Ziba e zishd Ziba e zishd La farfalla è bella Parwane e zibast Parwane e zibast Parwane e zibast Il ragno è brutto Ancabut zishd Ancabut zishd Grosso e magro Una donna di cento kiili È grassa Yek zan Ba sad kiilu Chaqa è Un uomo di cinquanta kiili È magro Yek merd ba penjah kiilu Lagarast Yek merd ba penjah kiilu Lagarast Karo e non karo Costoso e non costoso Giran va arzan Giran va arzan La macchina è cara La macchina è costosa Otomobil Giran Otomobil Giran Il giornale Non è karo Il giornale Non è costoso Ruznaam Arzan Ruznaam Arzan Fifty Languages Sessanta nove Shastu noh Shastu noh Aver bisogno Volere Lazim dastan Ho bisogno di un letto Non Be'yek Takt khab Ahtiag Daram Voglio dormire C'è un letto qui? Inja Takt khab Vujud Dared Ho bisogno di una lampada Ho bisogno di una lampada Mon yek lamp Ahtiag Daram Voglio leggere C'è una lampada qui? Inja lamp Vujud Dared Inja lamp Vujud Dared Ho bisogno di un teléfono Mon yek teléfon Lazim daram Mon yek teléfon Lazim daram Voglio fare Una chiamata Mon mi khóham Telefon Konam Mon mi khóham Telefon Konam C'è un teléfono qui? Inja teléfon Vujud Dared Inja teléfon Vujud Dared Ho bisogno di una macchina fotografica Mon yek Durbin Lazim daram Mon yek Durbin Lazim daram Voglio fotografare Non mi khóham Non mi khóham Akkási Conam C'è una macchina fotografica qui? 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 Inja durbin Vujud Lazim daram Voglio mandare un e-mail Man mi khóham yek e-mail Bifrestam C'è un computer qui? Inja yek computer Vujud Dared Ha bisogno di una penna Mon yek Khudkar Lazim daram Voglio scrivere qualcosa Mi khóham C'è zì Benewisam Mi khóham C'è zì Benewisam Ci sono un foglio di carta E una penna qui? Inja yek berg Kagaz Ve yek Khudkar Vujud Dared Inja yek berg Kagaz Ve yek Khudkar Vujud Dared Fifty languages Sittanta Aver Aver Vaglia di Qualcosa C'izì Khastan C'izì Khastan Liva Di fumare Mi khóhid Sigar Bekishid Mi khóhid Sigar Bekishid Liva Di Ballare Mi khóhid Berkishid Mi khóhid Berkishid Liva Di fare Una Passegata Mi khóhid Piad Rovi Konnid Mi khóhid Piad Rovi Konnid Vorrei Fumare Mi khóhid Mi khóhid Sigar Bekishim Mi khóhid Sigar Bekishim Voi Una Sigaretta Yek Nakh Sigar Mi khóhid Yek Nakh Sigar Mi khóhid Lui Vorrei Beacindere Una Sigaretta O Átash Mi khóhid O Átash Mi khóhid Vorrei Bere Qualcosa Man Mi khóhid Čízí Benúšam Man Mi khóhid Čízí Benúšam Vorrei Manjare Qualcosa Man Mi khóhid Čízí Bokhoram Man Mi khóhid Čízí Bokhoram Vorrei Ripozarmi Un po Man Mi khóhid Kami Istraahat Kahnem Man Mi khóhid Kami Istraahat Kahnem Vorrei Kederle Un Akaza Man Mi khóhid Az Shoma Sؤál Kahnem Man Mi khóhid Az Shoma Sؤál Kahnem Vorrei Kederle Un Favore Man Mi khóhid Az Shoma Togazai Čízí Kahnem Man Mi khóhid Az Shoma Togazai Čízí Kahnem Vorrei Ofrirle Qualcosa Man Mi khóhid Shoma Rá Be chízi Dravot Kahnem Man Mi khóhid Shoma Rá Be chízi Dravot Kahnem Desidera Prego Shoma Chima Mi khóhid Shoma Che Mi khóhid Gradíche Un Café Yek Quahve Mi khóhid Yek Quahve Mi khóhid A Preféríche Un Te Ya A 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 Ma Mi khóhid Bá Máshín Be cháy Bá Máshín Be cháy Bá Máshín Vriste Un Tasí Shoma Táksí Mí Khaí Mí Khaí Mí Khaí Loro Vrhe Bero telefonare un audio corso gratuito in numerose lingue 71 voler qualcosa che cosa volete volete giocare a pallone volete andare a trovare degli amici volere non voglio arrivare in ritardo non voglio andare a casa voglio restare a casa voglio essere solo voglio stare da solo voglio restare qui tu mi khai in giallo voglio restare qui vuoi dormire qui tu mi khai in giallo tu mi khai in giallo tu mi khai in giallo IntoH straighten vuole partire domani mi khai in giallo write a apro mi khai in giallo mi khai in giallo vuole restare qui ho terminate domani mi khai in giallo Vole pagare il conto solo domani? Vole ten bar in discoteca? Vole ten bar in discoteca? Volete andare al cinema? Mi khaied be cinema beravid? Volete andare al bar? Mi khaied be kafè beravid? Mi khaied be kafè beravid? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Fifty languages 72 Devo spedire la lettera Devo pagare l'albergo Devo lavorare molto Devo essere puntuale Lui deve fare benzina Lui deve aggiustare la macchina Uo baid mašinu ra ta'amir kona'd Lui deve lavare la macchina Uo baid mašinu ra bešu yad Uo baid mašinu ra bešu yad Lei deve lavare la spesa Uo baid mašinu ra ta'amir kona'd Uo baid mašinu ra bešu yad Lei deve pulire la casa Uo baid mašinu ra ta'amir kona'd Uo baid mašinu ra ta'amir kona'd Lei deve lavare la biancheria Uo baid mašinu ra bešu yad Uo baid mašinu ra bešu yad Dobbiamo andare subito a scuola Ma baid chand lahze diigar Be madresa beravim Ma baid chand lahze diigar Be madresa beravim Dobbiamo andare subito al lavoro Ma baid chand lahze diigar Sarikar beravim Ma baid chand lahze diigar Sarikar beravim Dobbiamo andare subito dal medico Ma baid chand lahze diigar Pishe doktor beravim Ma baid chand lahze diigar Pishe doktor beravim Dovete aspetare l'autobus Dovete aspetare il treno Dovete aspetare il tassi Dovete aspetare il tassi Dovete aspetare il tassi Dovete aspetare il tassi Poi già guidare? Poi già beri alcol? Puoi giandare all'estero da solo? Tu e' jaze d'ari tanha be' khorej safar koni? Tu e' jaze d'ari tanha be' khorej safar koni? Potere, essere permesso E' jaze d'ash tan E' jaze d'ash tan Possiamo fumare qui? E' jaze d'ash tanha be' khorej safar koni? E' jaze d'ash tanha be' khorej safar koni? E' permesso fumare qui? Inja sigar keshidan mo' jaze d'ash tanha Si puo' pagare con la carta di credito? Si puo' pagare con un assegno Si puo' pagare solo in contanti? Posso telfonare un momento? Mie towanem lahzei telfon be' zanam? Posso chiedere qualcosah? Mie towanem lahzei yek so'al konem? Mie towanem lahzei yek so'al konem? Posso dire qualcosah? Mie towanem lahzei čizi be' guiam? Mie towanem lahzei čizi be' guiam? Non puo dormire al parco Non puo dormire in auto, makina Non puo dormire in stazione Où ajazze n'darad d'ar istgahe quattar Bekhabad Posso mo' sederci? Ajazze d'arim, benšinim? Ajazze d'arim, benšinim? Posso mo' aver il menù? Ajazze d'arim, liste gaza ra' d'ashte bashim? Posso mo' pagare separatamente? Ajazze d'arim, joda per dacht namaïm? Ajazze d'arim, joda per dacht namaïm? Fifty languages Settantaquattro Hiftadu čahar Hiftadu čahar Kiedere qualkosa? Khaheshkerden darmoride čizi Mi puo taliare i kapelli? Amkana d'arad muhaiai mara kutah konid? Non troppo corti, per favore Un po' piu corti, per favore Lutfan, kami kutah ter Lutfan, kami kutah ter Pozviluppare le foto Mumkine est in aksha ra' zahir konid? Mumkine est in aksha ra' zahir konid? Le foto sono nel cidi Aksha roi cidi hastand Le foto sono nella macchina fotografica Aksha roi durbine hastand Può ajustare l'orologio? Mitovaniid in sa'at ra' t'amir konid? Mitovaniid in sa'at ra' t'amir konid? Il vetro e rotto Šiše šekasthe ast La batteria escarica Bateri khalhi ast Poz tirare la camicia Mumkine est in aksha ra' utu konid? Mumkine est in pirahan ra' utu konid? Può pulire i pantaloni? Mumkine est in shalwar ra' tamiz konid? Mumkine est in shalwar ra' tamiz konid? Può ajustare l'escarpe? Mumkine est in kafsh ra' tamiz konid? Mumkine est in kafsh ra' tamiz konid? A da acendere? Mumkine est be man yek fendak bedahid? Mumkine est be man yek fendak bedahid? A dei fiammiferi o un acendino? Shoma kebrit ya fendak dariid? Shoma kebrit ya fendak dariid? A un porta cenere? Shoma zir sigari dariid? Shoma zir sigari dariid? Fuma sigari? Shoma sigare berg mi keshid? Shoma sigare berg mi keshid? Fuma sigarette? Fuma la pipa Shoma peep mi keshid? Shoma peep mi keshid? Fifty Languages Settanta cinque Haftado panj Haftado panj Giustifikare qualcosa Uno Dalil awarden Beraie ciizi Yek Dalil awarden Beraie ciizi Yek Perchè non viene? Cera shoma nemi aid? Cera shoma nemi aid? Il tempo è così brutto Non vengo perchè il tempo è così brutto Non vengo perchè il tempo è così brutto Non è invitato Non è invitato Non vieni perchè non è invitato Perchè non vieni? Cera tu nemi aidi? Non ho tempo Non vengo perchè non ho tempo Non vengo perchè non ho tempo Devo ancora lavorare Non vengo ancora Non mi aidi Non resto perchè devo lavorare ancora Perchè già se ne va? Sono stanco Me ne vado perchè sono stanco Perchè parte già? C'era hala miravid? È già tardi Parto perchè è già tardi Man miravam zero dirast Man miravam zero dirast Fifty languages 76 76 76 76 Giustificare qualcosa 2 Perchè non sei venuto? C'era tu n'ayamadì? C'era tu n'ayamadì? Ero malato Man mariz budam Non sono venuto perchè ero malato Man n'ayamadam zira mariz budam Perché lei non è venuta? C'era u n'ayamadì? C'era u n'ayamadì? Era stanca U khaste bud U khaste bud Lei non è venuta perchè era stanca U n'ayamadì? U n'ayamadì? U n'ayamadì? U n'ayamadì? C'era u n'ayamadì? Perché non è venuto? C'era u n'ayamadì? C'era u n'ayamadì? Non ne aveva voglia Non è venuto perchè non ne aveva voglia Non è venuto perchè non ne aveva voglia Non è venuto perchè non ne aveva voglia Perché non siete venuti? C'era u n'ayamadì? C'era u n'ayamadì? La nostra macchina è rotta Khudroi ma' kharabast Non siamo venuti perchè la nostra macchina è rotta Ma n'ayamadìm c'on khudroi ma'n kharabast Perché non sono venuti? C'era u n'ayamadìm c'era u n'ayamadì? Hanno perso il treno A nha be Ghatar n'erisidand A nha be Ghatar n'erisidand Non sono venuti perché hanno perso il treno Perché non sei venuto? C'era tu ne amadi? C'era tu ne amadi? Non potevo Non sono venuto perché non potevo Non ne amadam zira a jazze n'dashtam Non ne amadam zira a jazze n'dashtam Fifty languages Settantasette Haftado haft Giustificare qualcosa Tre Dalil averden beraio cizzi Se Dalil averden beraio cizzi Se Perché non mangia la torta? C'era cake ra nemi khurid? C'era cake ra nemi khurid? Devo dimagrire Non la mangio Non la mangio perché Devo guidare Non la bevo perché devo guidare Non la mangio Non la mangio Non la mangio Non la mangio Perché non bere la canход Perché non bere il caffè? C'era tu quohore Non la mangio C'era tu quohore Non la mangio Non lo bevo perchè è freddo. Non c'è vero perché non bevi il te? Non lo bevo perchè non ho zuccher. Non c'è vero perché 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 non ho zuccher. 50 languages 78 78 Adgettivi Uno Una donna anciana Una donna grassa Una donna curiosa Una donna Una donna Una donna Una macchina comoda Un vestito azzurro Un vestito rosso Un vestito verde Una borsa nera Una borsa marrone Un vestito azzurro Una borsa bianca Un vestito azzurro Gente carina Persone carine Mardome mehrabon Gente gentile Persone gentili Mardome bo adab Gente interessante Persone interessanti Mardome jaleb Bambini cari Bacchahaie nazanin Bambini impertinenti Bacchahaie bi adab Bambini bravi Bacchahaie khubo mo adab Bacchahaie khubo mo adab costing jersey Number four 50 languages Dasselung Fast thu어 And now Agittivi 2 Indosso un abito azzurro Indosso un abito azzurro Indosso un abito azzurro Compro una borsa nera Compro una borsa marrone Compro una borsa bianca A bisogno di una macchina nuova A bisogno di una macchina veloce A bisogno di una macchina camoda Man yek khudroi raahet lazım dàrm Man yek khudroi raahet lazım dàrm Lasso un abito azzurro Anbala yek khonome pier zendegi mì kened 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 I nostri ospiti erano karini Mihmannan man ademhai mehrabani boudend Mihmannan man ademhai mehrabani boudend I nostri ospiti erano gentili Mihmannan man ademhai muadabì boudend Mihmannan man ademhai muadabì boudend I nostri ospiti erano interessanti Mihmannan man ademhai jalibì boudend Mihmannan man ademhai jalibì boudend Adekaribambini Ma i vicini hanno dei bambini impertinenti Amma hamsaieha boudend Sono buoni i suoi bambini Bucche-haiai shoma ba adab haastand Bucche-haiai shoma ba adab haastand Fifty languages Ottanta Hachetad Hachetad Agitivi Tre Sifatha 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 Aonkane O yek sag dared O yek sag dared Ilkane e grande O yek sag dared O yek sag dared Le yek sag dared Le yek sag dared Le yek sag dared O yek sag dared La casa e pikola O yek sag dared 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 Lui legge un romanzo Il romanzo è noioso Romanzo è noioso Romanzo è noioso Un romanzo è noioso Lui legge un romanzo è noioso Il film è avvencente Le guarda un film avvencente Il film è un film di pari Il film è un film di pari Grazie a tutti Zamane gozashte, yek Scrivere Neveshtan Lui ha scritto una lettera O, yek name nevesht E lei ha scritto una cartolina Va, o, yek kart postal nevesht Va, o, yek kart postal nevesht Leggere Khandan Lui ha letto una rivista O, yek majalle khand O, yek majalle khand E lei ha letto un libro Va, o, yek kartab khand Va, o, yek kartab khand Prendere Bardashten Gariften Lui ha preso una sigaretta O, yek sigar Bardasht O, yek sigar Bardasht Lei ha preso un pezzo di cioccolato Lui era infedele Ma lei era fedele Lui era pigro Ma lei era attiva Lui era povero Ma lei era ricca Lui non aveva soldi Ma debiti O, poul n'dash Belkhe bedehkar boud O, poul n'dash Belkhe bedehkar boud Lui non aveva fortuna Mas fortuna O, shans n'dash Belkhe bedshans boud O, shans n'dash Belkhe bedshans boud Lui non aveva succeso Ma insucceso O, muvaffaqiyeti n'dash Belkhe namuvaffaq boud O, muvaffaqiyeti n'dash Belkhe namuvaffaq boud Lui non era contento Mas contento O, razi n'dash Belkhe narazi boud O, razi n'dash Belkhe narazi boud Lui non era felice Belkhe badberkhord n'boud Belkhe badberkhord boud FIFTY LANGUAGES OTTANTADUE HASHTADUE HASHTADUE PASATO DUE ZAMANE GIZASHTE DUE ZAMANE GIZASHTE DUE AY DOVUTO KYAMARE L'AMBULANTSA TO MAJBUR BUDY YEC AAMBULANTSA SEDA KONI TO MAJBUR BUDY YEC AAMBULANTSA SEDA KONI HAI DOVUTO KYAMARE IL MEDICO TO MAJBUR BUDY PESESHK RA KHABAR KONI TO MAJBUR BUDY PESESHK RA KHABAR KONI HAI DOVUTO KYAMARE LA POLİZIA TO MAJBUR BUDY POLİS RA KHABAR KONI TO MAJBUR BUDY POLİS RA KHABAR KONI HAI IL NUMERO Dİ TELEFONO UN MOMENTO FA CE LA VEVO SHOMA SHOMARE TELFON RA DARIID TA AL'AN MAN SHOMARE RA DASHTEM SHOMA SHOMARE TELFON RA DARIID TA AL'AN MAN SHOMARE RA RA DASHTEM ALL'INDIRIZZO UN MOMENTO FA CE LA VEVO SHOMA ADRES RA DARIID TA AL'AN MAN AN RA DASHTEM SHOMA ADRES RA DARIID TA AL'AN MAN AN RA DASHTEM A LA PIANTA DELLA CITTA UN MOMENTO FA CE LA VEVO SHOMA NAKSHE TAMAD OU NA TABANEST SARE VAGT BIAYAD A TROVATO A TROVATO LA OU NETABANEST SOHBETE MARA BEFAHMAD OU MUTEWJH SOHBETE TO SHOD OU NETABANEST SOHBETE MARA BEFAHMAD PERQE NON SEI RIEUSSITO AD ARRIVARE PUNTUALMENTE CHERA TO NETABANESTY BE MOG BIAYI CHERA TO NETABANESTY BE MOG BIAYI PERQE NON RIEUSSHIWI A TROVARE LA STRADA CHERA TO NETABANESTY RAH RA PYDA KONI CHERA TO NETABANESTY RAH RA PYDA KONI PERQE NON RIEUSSHIWI BIA KAPIRLO CHERA TO NETABANESTY SOHBETE HAIISH RA BEFAHMI CHERA TO NETABANESTY SOHBETE HAIISH RA BEFAHMI NON SONO RIEUSSHITO AD ARRIVARE PUNTUALMENTE PERQE L'AUTOBUS NON VENIVA MAN NETABANESTY BE MOG BIAYAM ZIRA HIEC AUTOBUSY HARICAT NEMI KERD MAN NETABANESTY BE MOG BIAYAM ZIRA HIEC AUTOBUSY HARICAT NEMI KERD NON SONO RIEUSSITO A TROVARE LA STRADA PERQE NON AVEVO LA PIANTA DELLA CITTA NON SONO RIEUSSITO A CAPIRLO PERQE LA MUZICA ERA TROPPO ALTA RIEUSSITO 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 HO DOVUTO COMPRARE UNA PIANTA DELLA CITTA MAN MAJBOUR BUDAM YEC NAQSHE SHAHR BEKHARAM MAN MAJBOUR BUDAM YEC NAQSHE SHAHR BEKHARAM HO DOVUTO SPENGERE LA RADIO MAN MAJBOUR BUDAM RADIO RA KHAMUJ KONAM MAN MAJBOUR BUDAM RADIO RA KHAMUJ KONAM FIFTY LANGUAGES OTTANTATRE HASHTADO SE HASHTADO SE PASSATO TRE ZAMANE GOZASHTħ SE ZAMANE GOZASHTħ SE TELEFONARE TELEFON ZADAN TELEFON ZADAN HO TELEFONATO MAN TELEFON ZADAM MAN TELEFON ZADAM HO TELEFONATO PER TUTTO EL TEMPO MEN TEMAM 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 MUDDET BA TLEFON SOHBET MEEKERDAM MEN TEMAM MUDDET BA TLEFON SOHBET MEEKERDAM KIA DARE SŁALE KERDAN SŁALE KERDAN O KYESTO MEN SŁALE KERDAM MEN SŁALE KERDAM HO SEMPRE KYESTO MEN HEMIŞE SŁALE MEEKERDAM MEN HEMIŞE SŁALE MEEKERDAM RACCONTARE TAHRİF KERDAM TAHRİF KERDAM HO RACCONTATO MEN TAHRİF KERDAM MEN TAHRİF KERDAM HO RACCONTATO TUTTA LASTARIA MEN MEN TAHRİF KERDAM MEN TAHRİF KERDAM TAHRİF KERDAM STUDIARE YAD GERFTAN YAD GERFTAN HO STUDIATO MEN YAD GERFTAM MEN YAD GERFTAM HO STUDIATO TUTTA LASERA MEN TAMAME SHAB MASHGOOL YADGİRİ BUDEAM MEN TAMAME SHAB MASHGOOL YADGİRİ BUDEAM LAVORARE KARKARDAN KARKARDAN HO LAVORATO MEN KARKARDEAM A LAVORATO TUTTO EL GORNO MEN TAMAME ROOZ RA KARKARDEAM MEN TAMAME ROOZ RA KARKARDEAM MANJARE PRACARDAN KADKARDAN KADAKARDAN MANJARE A LAVORATO MAN MEN mmm KADKARDEAM MEN KADKARDEAM MEN AMMEN JAAT DU TOTTO MAN MITAMAME Hoe Jez Yoz ROOZ WHO ROZ LAN DIE biz Wir tetap FIFTY LANGUAGES OTTANTAQUATTRO HASHTADO CAHAR PASSATO QUATTRO ZAMAN GUZASHTE CHAHAR LEGJERE KHONDAN ALETTO MEN KHONDE AM ALETTO TUTTOILERAMANZO MEN TAMAME ROMANRA KHONDE AM MEN TAMAME ROMANRA KHONDE AM CAPIRE FAHMIDAN FAHMIDAN HO CAPITO MEN FAHMIDE AM HO CAPITO TUTTO IL TESTO MEN TAMAME MATNRA KHONDE AM MEN TAMAME MATNRA KHONDE AM RISPONDERE JUABAB DADEN PASUK DADEN A RISPOSTO MEN JUABAB DADE AM MEN PASUK DADE AM A RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE MEN BE TAMAMI SOALAT PASUK DADE AM MEN BE TAMAMI SOALAT PASUK DADE AM LOSA LOSAPEVO MEN ANRA MIEDANEM MEN ANRA MIEDANESTEM MEN ANRA MIEDANEM MEN ANRA MIEDANESTEM LO SCRIVO L'HO SCRITTO MEN ANRA MIE NEVISAM MEN ANRA NEVISTAM MEN ANRA MIE NEVISAM MEN ANRA NEVISTAM LO SENTO L'HO SENTITO MEN ANRA MIE SHENAVAM MEN ANRA SHENIDEAM VADO A PRENDERLO SONO ANDATO A PRENDERLO MEN ANRA MIEDANESTEM MEN ANRA MIEDANESTEM MEN ANRA MIEDANESTEM LO PORTO L'HO PORTATO MEN ANRA MIEDANESTEM MEN ANRA MIEDANESTEM LO COMPRO L'HO COMPRATO MEN ANRA MIEKHARAM 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 Lo spiego. L'ho spiegato. Non mi è nuovo. Lo so. Lo sapevo. 50 Languages 85 85 86 85 Domande Passato Uno Sual cardan Zamane gozashte Yek Sual cardan Zamane gozashte Yek Quanto ha bevuto? Shoma che qadr Noushideid? Shoma che qadr Noushideid? Quanto ha lavorato? Shoma che qadr Kar kardeid? Shoma che qadr Kar kardeid? Quanto ha scritto? Shoma che qadr Noushideid? Shoma che qadr Noushideid? Come ha dormito? Shoma che tor Khabidid? Shoma che tor Khabidid? Come ha fatto A superare l'ezame? Shoma che qadr D'ar imtihand Qabul Shoma che qadr D'ar imtihand Qabul Shoma che qadr Con chi ha preso Appuntamento? Shoma che qadr Karare Mulaqat Con chi ha festeggiato il compleanno? Shoma che qadr Jashn Jashn Tavallod Grefteid? Shoma Baki jashn Tavallod Grefteid? Dove Stato? Shoma Kujha Budeid? Shoma Kujha Budeid? Dove A Abitato? Shoma Kujha Zindegi Mie Kardid? Shoma Kujha Zindegi Mie Kardid? Dove Alaborato? Shoma Kujha Kujha Mie Kardid? Shoma Kujha Kjar Mie Kardid? Che Kaza A Consiliato? Shoma Che To Siyah Y Kardeid? Shoma Che To Siyah Y Kardeid? Che Kaza A Manjato? Shoma Che Kord Eid? Shoma Chi Kord Eid? Che Kaza E Venuto A Sabere Shoma Che Et Kasp Kerde Eid? Shoma Che Et Kasp Kerde Eid? A Che Velocita E Andado Shoma Ba Che Serrat Y Rahn Andegi Mie Kardeid? Shoma Ba Che Serrat Y Rahn Andegi Mie Kardeid? Quanto E Durato Il Volo? Shoma Che Muddat Parwaz Kerde Eid? Shoma Che Muddat Parwaz Kerde Eid? Fino Che Alteza E Saldado Shoma Taa Che A Rtfai E Parid Eid? Shoma Taa Che A Rtfai E Parid Eid? 50 Languages 86 86 86 86 86 86 Domande Passato 2 Sؤال کرden زمان گذشته 2 Sؤال کرden زمان گذشته 2 Che Kravata Eid Indosato To Kodam Kravata Razade Boodie? To Kodam Kravata Razade Boodie? A Ke Jornal Tisei Abonato To A Kodam Ruznaam Razade Razade Boodie? A Kodam Ruznaam Razade 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 Kia Visto Shoma Che Kasi Razade 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 Shoma Che Kasi Razade 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 Shoma Ba Che Kasi Mulaqat Kade Razade Kia Rikonushuto Shoma Che Kasi Razade 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 Kando Kese Kasi Kasi Razade 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 Kando Si E Alzato Shoma Che Mوقع Az Khab Buland Mishaw Yid Shoma Che Mوقع Az Khab Buland Shude Yid Kando Acominciato Shoma Che Mوقع Shuru Kerde Eid Shoma Che Mوقع Shuru Kerde Eid Kando Afinito Shoma Che Mوقع Kar Ra Mut Waqqif Kerde Eid Shoma Che Mوقع Kar Ra Mut Waqqif Kerde Eid Perke Si Es Veljato Shoma Che Ra Bidar Shude Eid Shoma Che Ra Bidar Shude Eid Perke E Diventato Insegnante Cera Shoma Moallem Shude Eid Cera Shoma Moallem Shude Eid Perke Ha Preso Un Tassi Cera Shoma Savare Taxi Shude Eid Cera Shoma Savare Taxi Shude Eid Da Da Dove Venuto Shoma Az Koja Aamade Eid Shoma Az Koja Aamade Eid Dove Andato Dove Dove Estato Shoma Kujha Bude Eid Aki Ais Kripto Dove Che Kasi Nama Nves Tui Dove Che Kasi Nama Nves Tui Aki Ais Resposto Dove Che Kasi Jawa Dade E Tove Che Kasi Jawa Dade E Fifty Languages Ottanta Sette Hashtado Haft Hashtado Haft Passato Verbi Modali Uno Zaman Gozashte Y Af'ale Muayyan Y Zaman Gozashte Y Af'ale Muayyan Y Abbiamo Dovuto Innaffiare I Fiori Ma Baid Be Gulha Ab Mi Dadim Ma Baid Be Gulha Ab Mi Dadim Abbiamo Dovuto Mettere In Ordine L'appartamento Ma Baid Apartman Ra Muratab Mi Cardim Ma Baid Apartman Ra Muratab Mi Cardim Abbiamo Dovuto Lavare I Piatti Ma Baid Zoruf Gazara Mi Shostim Ma Baid Zoruf Gazara Mi Shostim Avete Dovuto Pagar Il Conto Aya Shoma Majbure Be Pardaght Surat Hsab Budid Avete Dovuto Pagar L'ingresso Aya Aya Shoma Majbure Be Pardaght Vurudi Budid Avete Dovuto Pagare Una Multa Aya Shoma Majbure Be Pardaght Jariime Budid Da Kyi Dovuto Acom Bia Tarsi Che Kasi Baid Khuda Hafiz Mikard Che Kasi Baid Khuda Hafiz Mikard Kyi Dovuto Andara Casa Presto Che Kasi Baid Zood Be Khane Miraf Che Kasi Baid Zood Be Khane Miraf Kyi Dovuto Prender Il Treno Che Kasi Baid Ba Qatar Miraf Che Kasi Baid Ba Qatar Miraf Non Volevamo Restare Allungo Ma Nemi Khaast Tiem Muddate Ziyadie Bemani Ma Nemi Khaast Tiem Muddate Ziyadie Bemani Non Volevamo Bere Niente Ma Nemi Khaast Tiem Ciz Ben Oshim Ma Nemi Khaast Tiem Ciz Ben Oshim Non Volevamo Disturbare Ma Nemi Khaast Tiem Muzahim Beshavim Volevo Solo Telefonare Volevamo 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 FIFTY LANGUAGES OTTANTOTTO HASHTADO HASHT PASSATO VERBI MODALI DUE ZAMANE GOZASHTAY AFAAL MUAIYAN DUE ZAMANE GOZASHTAY AFAAL MUAIYAN DUE MIOFILIO NON VOLEVA GOKARE CON LA BAMBOLA PESARAM NEMI KHAST BA AROUSAK BASI KONAD MIOFILIO NON VOLEVA GOKARE A PALONE DOKTARAM NEMI KHAST FUTBAL BASI KONAD MIOFILIO NON VOLEVA GOKARE AZ KAKI CON ME HEMSARAM NEMI KHAST BA MAN SHATRANJ BASI KONAD I MIEI FIGLI NON VOLEVANO FARE UNA PASSEGATA NON VOLEVANO ANDARE A LETTO NON VOLEVANO ANDARE A LETTO ANHA NEMI KHAST AND BE RAKT KHAB BERAVAND LUI NON POTEVA MANGIARE IL GELATO LUI NON POTEVA MANGIARE IL CHOKOLATO 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 Ho potuto prendere un cioccolatino Potevi bere la birra in ospedale? Potevi portare il cane in albergo? Potevi bere la birra in ospedale? Durante le vacanze, i bambini potevano restare a lungo fuori. Bacchia dar taatilat ajazze dastand, muddate ziyadī bīrūn bāşand. Bacchia dar taatilat ajazze dastand, muddate ziyadī bīrūn bāşand. Loro potevano giocare a lungo nel cortile. Ānha ajazze dastand, muddate ziyadī dār haiāt bāzī konand. Ānha ajazze dastand, muddate ziyadī dār haiāt bāzī konand. Ānha ajazze dastand, muddate ziyadī bīrūn bāzī konand. Ānha ajazze dastand, muddate ziyadī bīrūn bāzī konand. Copyright, good if the luck. Fifty Languages, un audiocorso gratuito in numerose lingue. Ottantanove Hashtādu noh Hashtādu noh Imperativo uno Amrī yek Amrī yek Tu sei così pigro, non essere così pigro. Tu chīlī tambalī, inqadr tambal nabāś. Tu dormi tanto, non dormire tanto. Tu chīlī mi khābī, inqadr nā khāb. Tu arrivi così tardī, non arrivare così tardī. Tu dīr mīāī, inqadr dīr nā yā. Tu dīr mīāī, inqadr dīr nā yā. Tu rīdī così forte, non rīdere così forte. Tu bā sedaī būlant mi khābī, inqadr būlant nā khāb. Tu bā sedaī būlant mi khābī, inqadr būlant nā khāb. Tu parli così a bassa voce. Non parlare così a bassa voce. Tu āhiste harf mi zanī, inqadr āhiste harf nazan. Tu āhiste harf mi zanī, inqadr āhiste harf nazan. Tu bēvi troppo, non bere tanto. Tu fumi troppo, non fumare tanto. Tu āhiste harf mi kēshī, inqadr āhiste harf nā kēsh. Tu lavori troppo, non lavorare tanto. Tu āhiste harf mi kār mī kārnī, inqadr āhiste harf nā kārn. Tu āhiste harf mi kārnī, inqadr āhiste harf nā kārn. Tu vai troppo forte, non andare così forte. Tu خیلی سری rānandegi mī kārnī, inqadr āhiste harf nā kārn. Tu خیلی سری rānandegi mī kārnī, inqadr āhiste harf nā kārn. Si alzi, signor Müller. Āgāie Müller, buland šabīd. Āgāie Müller, buland šabīd. Si accāmodi, signor Müller. Āgāie Müller, benšinīd. Āgāie Müller, benšinīd. Resti seduto, signor Müller. Āgāie Müller, dar ājaie khūd benšinīd. Āgāie Müller, dar ājaie khūd benšinīd. Āgāie Müller, 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 benšinīd. Sia puntuale Non sia stupido Ahmaq nabashid www.book2.de per il libro e per i testi 50 Languages 90 Navad Navad Imperativo 2 Amri 2 Amri 2 Fatti la barba Sura tatra betarash Sura tatra betarash Lavati Khudatra besuui Pettinati Muhajatra shanab zan Muhajatra shanab zan Telfonami Mitelefoni Telfon kone Shuma telfon kone Telfon kone Shuma telfon kone Comincha Cominchi Shura kone Shuma shuma shumma shura koneid Shura kone Shuma shura koneid smettila la smetta lascia stare di questo dica questo begu shoma beguid begu shoma beguid compra questo compri questo becharas shoma becharidash becharas shoma becharidash non essere mai disonesto hergiz dorooggo nabash hergiz dorooggo nabash non essere mai impertinente hergiz gustah nabash hergiz gustah nabash non essere mai scortese hec vaqut bi adab nabash hec vaqut bi adab nabash si sempre sincero buon ritorno a casa be salam 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 abia cura dese Retorni attroverci presto Bezudì, baz be molaقat ma biaïd Bezudì, baz be molaقat ma biaïd FIFTY LANGUAGES NOVANTUNO NOVADO YECK NOVADO YECK FRAZI SEKONDARIE CON KE UNO GOMELATE WABASTE BA KE YECK GOMELATE WABASTE BA KE YECK FORCE DOMAN IL TEMPO SARA MILYORE FARDA AHTEMALEN HOVA BEHTAR MEE SHOWED FARDA AHTEMALEN HOVA BEHTAR MEE SHOWED COME FAASA PERLO AZ KOJA EIN MOZUK RAH MEE DANIED AZ KOJA EIN MOZUK RAH MEE DANIED SPERO QUE MEE LIORI UMIEDWAREM KEE HAWA BEHTAR BESHOWED UMIEDWAREM KEE HAWA BEHTAR BESHOWED VIENE SIKURAMENTE OU YAKİNAN MEE AYAD OU YAKİNAN MEE AYAD ES SIKURU MUTMUĞEN HASTY MUTMUĞEN HASTY SO QUE VIENE MEN MEE DANEM KEE OU MEE AYAD MEN MEE DANEM KEE OU MEE AYAD TELEFONA SIKURAMENTE OU MUTMUĞENAN TELEFON MEE KONAD OU MUTMUĞENAN TELEFON MEE KONAD VERAMENTE? VAGAĞAN VAGAĞAN CREDO CHE TELEFONI MAN FIKR MEE KONAM KEE OU TELEFON MEE KONAD MAN FIKR MEE KONAM KEE OU TELEFON MEE KONAD IL VINO E' CERTAMENTE INVECCHIATO IN SHARAB YAKİNAN QADIMI AST IN SHARAB YAKİNAN QADIMI AST LO SA DI SIKURO? IN RA SHOMA DAGIGAN MEE DANID IN RA SHOMA DAGIGAN MEE DANID SUPPONGO CHE SIA INVECCHIATO MAN IHTEMAL MEE DAHAM KEE SHARAB QADIMI AST MAN IHTEMAL MEE DAHAM KEE SHARAB QADIMI AST IL NOSTRO TITOLARE HA UN BELL'ASPETTO RAEESMA KHUSHTIP AST RAEESMA KHUSHTIP AST LEY TROVA? NAZARE SHOMA EINE AST NAZARE SHOMA EINE AST TROVO CHE HABIA DIRITTURA UN OTTIMO ASPETTO BE NAZARE MAN KEE OO BESIAR KHUSHTIP AST BE NAZARE MAN KEE OO BESIAR KHUSHTIP AST IL TITOLARE HA CERTA MENTE UNAMICA RAEES HATMAN YEC DOOST DOKTAR DARAD RAEES HATMAN YEC DOOST DOKTAR DARAD LO CREDE VERAMENTE? WAQIEN CHENIN FIKRI MEE KONIID? WAQIEN CHENIN FIKRI MEE KONIID? E MOLTO PROBABILE KEE ABIA UNAMICA FIFTY LANGUAGES FRAZI SECKONDARIE CON KEE DOO GOMALAT WABASTE BA KEE DOO GOMALAT WABASTE BA KEE DOO MISIKKA KEE TOO RUSI BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO KHURRUPUF MEE KONI BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO KHURRUPUF MEE KONI MISIKKA KEE TOO BEWATTAN TABIER BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO AIN QUADR ABAJU MEE NUŞI BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO AIN QUADR ABAJU MEE NUŞI BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO AIN QUADR ABAJU MEE NUŞI BAIES AZAAR MAN AST KEE TOO AIN QUADR ABAJU MEE NUŞI CREDO QUE HABIA BISOGNIO DE UN MEDICO MAN FIKRU MEE CONEMK KE OU BEYEK PIZEŞK EHTIYاج DARAD MAN FIKRU MEE CONEMUM KE OU BEYEK PIZEŞK EHTIYاج DARAD CREDO KE SI HA MALATO MAN FIKRU MEE CONEM KE OO MALIZ EAST Credo che adesso dorme Speriamo che spazi nostra filia Speriamo che abbia molti saldi Speriamo che si ame Speriamo che è un milionario Speriamo che è un milionario Speriamo che è un milionario Ho sentito che è all'ospedale. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Io ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Mi fa piacere che sia venuto. Mi fa piacere che abbia interesse. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. Ho sentito che l'ultimo autobus si è già passato. TEMO che dobbiamo prendere un tassi. TEMO di non avere denaro con me. MEN NIGARAN HSTEM KE POOL HEMRAH NEDASHTE BASHEM FIFTY LANGUAGES FRAZI SECONDARIE CON SE NONSOS RITERN Non so se mi teléfona Non so se mi teléfona Kisà se mi ama Kisà se ritorn Kisà se mi teléfona Kisà se mi teléfona Mi chiedo se mi pensi Man azz khudam mi porsam Aya o be man fikr mi koned Mi chiedo se abbia un altra Mi chiedo se menta Man azz khudam mi porsam Aya o doroog mi goeied Kisà se mi pensi Aya o be man fikr mi koned Kisà se a un altra Aya o fard dìgri rà dàrèd Aya o fard dìgri rà dàrèd Kisà se dìcè la verità Aya o fard dìgri rà mi goeied Aya o fard dìgri rà mi goeied Aya o fard dìgri rà digri rà si Grazie a tutti. 50 Languages Aspetta finché smette di piovere Aspetta finché ho finito Aspetta finché lui torna Aspetto di avere i capelli asciutti Aspetta finché il film sia terminato Aspetta finché il semaforo sia verde Quando vai in vacanza? Tu chi be'e musafirat mirovi? Tu chi be'e musafirat mirovi? Ancora prima delle vacanze estive? Si, prima che cominciano le vacanze estive Voleh, pizze a un kè tattilat tàbestani Shorua u shavad Voleh, pizze a un kè tattilat tàbestani Shorua u shavad Ripara il tetto prima che cominci l'inverno Pizze a un kè zemestan Pizze a un kè zemestan Shorua u shavad Saghf rà tattamir kone Pizze a un kè zemestan Shorua u shavad Saghf rà tattamir kone Lava tile mani Prima di sederti a tavola Pizze a un kè Sare miez ben shini Dasthajat rà bishui Pizze a un kè Sare miez ben shini Dasthajat rà bishui Chiudi la finestra Prima di uscire Pizze a un kè kharig shavì Panjere rà beband Pizze a un kè kharig shavì Panjere rà beband Quando vieni a casa? Chei be khane miei? Chei be khane miei? Dopo le lecioni? Dopo le lecioni sono finite Dopo le lecioni non ha piu potuto lavorare Dopo aver perso il lavoro e andato in America Dopo essere andato in America È diventato ricco Dopo essere andato in America Dopo essere andato in America È diventato ricco Novantacinque Navado Panj Congiunzioni due Hurufe rapt Do Da quando non lavora piu? O az ce moqe digar kar nemikonad? O az ce moqe digar kar nemikonad? Da dopo il suo matrimonio? Azzamane esdewajash? Azzamane esdewajash? Si Lei non lavora piu da quando si è sposata Bale O az ce moqe digar kar nemikonad? Bale O az ce moqe digar kar nemikonad? Da quando si è sposata non lavora piu? O az ce moqe digar kar nemikonad? O az ce moqe digar kar nemikonad? Da quando si conoscono sono felici? Azzamane eshhh Azzamane es ego Quando telefona O c'è mò che telefona mi kona'd? Durante il viaggio? Dar heine ronandegì? Si, mentre guida Bale, hengami che ronandegì mi kona'd Bale, hengami che ronandegì mi kona'd Lei telefona mentre guida O, hengami ronandegì telefona mi zanad Lei guarda la tv mentre stira O, hemzaman ba otu carden, television tamasha mi kona'd O, hemzaman ba otu carden, television tamasha mi kona'd Lei ascolta la musica mentre fai i compiti O, zemne anjame takalife madrase, musiqui gush mi da'ad O, zemne anjame takalife madrase, musiqui gush mi da'ad Non vedo niente se non metto gli occhiali Non capisco niente se la musica è così forte Non sento dori quando oil raffreddore Seppiave prendiamon tassi Sevinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo Se non arriva presto, cominciamo a mangiare Ager o be zoodi nayaid, ma gaza rà shorua mi kona'i Ager o be zoodi nayaid, ma gaza rà shorua mi kona'i 50 languages 96 Navadu shesh Navadu shesh Congiunzioni Tre Haroofe rabd Se Haroofe rabd Se Mi alzo appena suona la sveglia Man be mahze in ke saat zang be zanad, bidar mi shavam Man be mahze in ke saat zang be zanad, bidar mi shavam Mi stanco appena inizio a studiare Man be mahze in ke saat zang be zanad, bidar mi shavam Man be mahze in ke saat zang be zanad, bidar mi shavam Digar kar nemikonem Cuando teléfona? Che moque teléfon mi konid? Che moque teléfon mi konid? Appena a un momento di tempo Be mahze in ke chand lehze fursat pida konem Be mahze in ke chand lehze fursat pida konem Lehi teléfona appena a un podi tempo O, be mahze in ke fursat pida konad, teléfon mi konad O, be mahze in ke fursat pida konad, teléfon mi konad Quanto tempo laborerà? Che mudet shuma kar mi konid? Che mudet shuma kar koha hiid kard? Lavorerà finke potra Taa zemani khe betawánem kar khóa ham kard? Taa zemani khe betawánem kar khóa ham kard? Lavorerà finke sarosano Man taa zemani khe salem bashem kar khóa ham kard? Man taa zemani khe salem bashem kar khóa ham kard? Staa aletto, invece di lavorare O, be giai aen khe kar konad, darr rakt khóab lam dade ist O, be giai aen khe kar konad, darr rakt khóab lam dade ist Leilege il giornale, invece di kuchinar O, be giai aen khe kar kaza bepazad, ruznaamhe mi khóanad O, be giai aen khe kar kaza bepazad, ruznaamhe mi khóanad Luista albar, invece di andare a kaza O, be giai aen khe be khóane beravad, darr bár ménè shínad O, be giai aen khe be khóane beravad, darr bár ménè shínad A kuantoso, lui abita qui Ta anja khe man itelah darram, o inja zendegi mi khóanad Ta anja khe man itelah darram, o inja zendegi mi khóanad A kuantoso, sua moglie è malata Ta anja khe man itelah darram, o inja zendegi mi khóanad A kuantoso, lui è disoccupato Ta anja khe man itelah darram, o inja zendegi mi khóanad Ta anja khe man itelah darram, o inja zendegi mi khóanad Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale Man khóab mondam, vagyarná be moge mi residam Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale Mon raha raha pida n'kardem, o inja zendegi mi residam Mon raha raha pida n'kardem, o inja zendegi mi residam Fifty languages Novantasette Navado Haft Conjunsioni quattro Haruf rabt, čahar Si è addormentato sebbene il telewizore fosse acceso Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento Il telewizore era acceso, tuttavia si è addormentato Telewizion rošan búd, bá vújude in ú khabashbord Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto Ma báham quarrar molaqat dàashtim, bá vujud a in, o n'ayamad Sebbene non abbia la patente guida la maquina Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi n'adarad, ronandegi mi kened Sebbene la strada sia gelata, lui va forte Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened La strada è gelata, tuttavia va forte La strada è gelata, tuttavia va forte Quiaban lagzandà è, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta O musta è, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Sebbene sia laureata, non trova un posto Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Sebbene abbia dolori, non vada al medico Bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Sebbene non abbia soldi, compra una macchina Bá in, o poul n'adarà, mašin mi kened O t'hsill kerdè è, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened Lei ha dolori, ciò nonostante non vada al medico O dard dared, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened O dard dared, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened O poul n'daràd, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened O poul n'daràd, bá vujud a in, o n'ayamé ronandegi mi kened 98 98 98 98 Congiunzioni koordinative Hurufe rabte mozaaf Hurufe rabte mozaaf Il viaggio è stato bello, ma faticoso Aggarce mosafirat khub bud, amma khayli khastekonande bud Il treno era in orario, ma affollatissimo L'albergo era accoliente, matropo caro Lui prende o l'autobus o il treno O ya ba autobus mi ravad, ya ba qatar O ya ba autobus mi ravad, ya ba qatar Lui viene o stasera, o domani mattina O ya emshab mi áiad, ya farda sophe zood O ya emshab mi áiad, ya farda sophe zood Lui abita o danoi, o inalbergo O ya píše ma mi mánad, ya dar hotel O ya píše ma mi mánad, ya dar hotel Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese Lui abisuto sia a madrid, che a londra Lei conosce sia la spagna, che l'ingilterra Lui non è solo stupido, ma anche pigro Lei non è solo carina, ma anche intelligente Lei non parla solo tedesco, ma anche francese Lei non so suonare, né il pianoforte, né la guitarra Non so ballare, né il waltzer, né la samba Non mi piacce, né l'apera, né il balletto Man ne az awaz e operà khusham mi áiad Va ne az rax balè Man ne az awaz e operà khusham mi áiad Va ne az rax balè Quanto più in fredda lavori, tanto più presto finisci Quanto prima vieni, tanto prima puoi andar te ne? Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa 50 languages 99 99 Genitivo Hálate ezafe La gatta della mia amica Gurbè e dùszt duchteram Il cane del mio amico Saghe dùszt pesaram I giocattoli dei miei bambini Asbab bazie bacchehaiam Questo è il cappotto del mio collega Questa è la macchina della mia collega In khudroye hamkare manast In khudroye hamkare manast Questo è il lavoro dei miei colleghi In khudroye hamkare manast Il bottone della camicia si è staccato La chiave del garage si è persa Il computer del titolare è guasto Compeuter raiis La casa è in fondo alla strada La casa è in fondo alla strada Qual è il titolo del libro? Onwane kitab chi è st? Come si chiamano i bambini dei vicini? Name bacchehaie hamzaie chi è st? Quando sono le vacante estive dei bambini? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? Ogate vizite doktor che zamanhaie est? Qual è l'orario di apertura del museo? Saat kari mouze Che zamanhaie est? Saat kari mouze Che zamanhaie est? Copyright Good if a luck 50 languages Un audio corso gratuito in numerose lingue 100 100 100 100 Averbi Best Averbi Averbi è giustato a Berlino una volta? aia tà behal dàr Berlino budeïd? aia tà behal dàr Berlino budeïd? no, non ci sono mai stato nè, hergiz nè, hergiz qualcuno, nessuno kassì, hiccass kassì, hiccass conoscè qualcuno qui? shoma inja kassì ra mi shenasìd? no, non conosco nessuno nè, man inja kassì ra nemishenasam nè, man inja kassì ra nemishenasam ancora, non più hanoz hem, digger nè hanoz hem, digger nè resta ancora tanto qui? no, non ci resto più tanto nè, man digger ziad inja nè, man digger ziad inja nè, man digger ziad inja nè mì manam ancora qualcosa? più niente no, non voglio più niente nè, bìs azzin nè, bìs azzin nè, bìs azzin nè mì khóham giacqual kassa ancora niente tà hala mقدari hanoz hìc tà hala mقدari hanoz hìc ha mangiato gia qualcosa? shoma chizi khurde id? shoma chizi khurde id? no, non ho mangiato ancora niente nè, hanoz chizi nakhurde am nè, hanoz hìc chiz nakhurde am ancora qualcuno nessuno qualcuno vuole ancora un kaffè? kassi dìgarì quahve mi khóhad? kassi dìgarì quahve mi khóhad? no, nessuno nè, digar kassi nemi khóhad nè, digar kassi nemi khóhad visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi www.book2.de